Buongiorno a tutti, io sono Federico Giannoli dell'Associazione GFOS e quest'oggi appunto siamo in compagnia di Roberta Faviadini e di Amedeo Fadini, che nonostante i cognomi simili non sono per nulla imparentati, e andremo ad esplorare un po' la gestione dei dati riguardanti il Catasto con il plugin CDU, sviluppato proprio da Roberta. Gli incontri sono promossi dall'Associazione GAMS e dall'Associazione GFOS. L'Associazione GFOS è l'associazione che si occupa, l'associazione dei riferimenti in Italia che si occupa di software geografico libero, e appunto assieme a GAM abbiamo messo in piedi questo ciclo di webinar con cadenza bisettimanale che ci accompagnerà fino a maggio con una serie di eventi che trovate tutti quanti sul sito gfos.it, avete il programma completo e la possibilità di registrarvi. Faccio un appello, perché molti di voi probabilmente hanno seguito anche altri webinar, ne seguiranno anche altri, questi webinar sono forniti dai nostri soci che sono volontari, quindi nessuno viene retribuito in nessun modo per il tempo che dedica a questo ciclo di incontri. La cosa che vi chiediamo è se vi apprezzate appunto di fare pubblicità dei prossimi appuntamenti e soprattutto di sostenere l'Associazione o tramite donazioni, anche pochi euro possono bastare, a noi fanno davvero la differenza, oppure potete anche iscrivervi all'associazione sia a GFOS che a GAM e tutte le informazioni che sono fatte all'interno del sito gfos.it. Ringraziamo sempre il Politecnico di Torino e il Master in G Science dell'Università di Padova per il supporto e anche il Digital Campus di Padova che ci mette a disposizione la sede. A tal proposito lascerei la parola ai nostri due relatori di oggi, che non voglio togliergli tempo, quindi lascio la parola a voi due Roberta e Amedeo. Per qualsiasi cosa le domande le potete fare in chat alla fine di ogni argomento, leggeremo le domande e daremo risposta. vi ringrazio Amedeo, lascio a voi la parola. Sì, grazie mille Federico. Vedo che in chat qualcun altro ha problemi di audio, però è quasi certamente un problema da risolvere localmente, forse con le impostazioni del sistema operativo, caso mai segnalate se ci sono ulteriori problemi. E quindi oggi cercheremo di parlare un po' in generale di Catasto e com'è nella tradizione, ma anche nello scopo dell'associazione, visto che la cultura open significa la capacità di condividere la conoscenza, insomma, vi invito assolutamente ad intervenire se magari notate qualcosa da dire, se avete qualche esperienza da aggiungere a quello che magari dirò io Roberta, oppure se sbagliamo qualcosa, perché può capitare anche in questo argomento, per cui le cose, anche le normative cambiano genericamente. Allora io inizio magari cercando di recuperare il mio schermo, la mia presentazione. Ok, vedete qualcosa? Sì, sì, si vede benissimo. Grazie Roberta. Allora, ciao a tutti, io sono Amedeo Fadini, sono socio GFOS dal 2010 e sono abilitato pianificatore territoriale e ho lavorato spesso, soprattutto con i GIS in pratica e poi adesso sono passato al sistema della ricerca e mi occupo di pianificazione nello spazio marittimo, ma continuo anche a fare alcune attività di consulenza oppure di programmazione, soprattutto in ambito web. L'ambito della cartografia catastale io l'ho incontrato a partire dall'urbanistica, questo è molto importante, dove normalmente ci si trova a identificare, appunto ci si trova a considerare l'impatto su quelle che sono le effettive proprietà di alcuni interventi, quindi l'ambito degli espropri, oppure dove c'è anche la necessità di comunicare ai titolari di un'area che quest'area è diventata fabbricabile, quindi banalmente inizia a pagare le tasse nel nostro assetto urbanistico. Poi le cose, io conosco bene la realtà della regione Veneto, però le cose sono anche molto diverse. Ma prima ancora, io nel 2008, 2006, 2008, ho assistito diversi comuni nel proprio consultare la cartografia catastale che in quel momento veniva messa a disposizione dei comuni per ragioni di imposizione fiscale e quindi di controllo soprattutto dell'imposta prima dell'ICI e poi dell'IMU, che sono imposte appunto municipali, comunali, e oggettivamente c'era proprio da rendere visibile questa cartografia che viene fornita in formato CXF. Più recentemente questo formato è disponibile anche per i professionisti a pagamento, si pagano circa 17 euro per il singolo foglio, per cui determinate tipologie di lavoro sono possibili anche se non si sta lavorando per un ente pubblico nell'ambito delle sue finalità istituzionali, perché questo è un pochino il modo di... questa era la dicitura con cui viene tuttora rilasciata la cartografia dal portale dei comuni. Soprattutto abbiamo una grandissima novità a partire da due anni o da un anno a questa parte, che poi lo vedremo, è invece la pubblicazione della cartografia catastale in formato WMS. Per piacere magari in chat fatevi avanti se qualcuno di voi lavora per un ente pubblico o se ha già avuto esperienza ecco di trattare in pratica i dati catastali o se magari se siete professionisti. Quindi se avete voglia dateci qualche... allora mi dispiace davvero per Davide che non riesce ad ascoltare nulla, mi resta da... non saprei davvero cosa fare... perfetto abbiamo qualche dipendente dell'ente pubblico quindi poi ecco magari cercherò di interrogarvi e di farvi intervenire e di chiedere un po' come è stata l'esperienza. Per dire una delle cose simpatiche che eh capitava è che eh intorno all'anno duemila e dieci diciamo quasi tutti i comuni avevano aderito alla convenzione con l'agenzia del territorio eh all'epoca ma la stragrande maggioranza di loro non lo sapeva perché la password per scaricare questi file era in mano giustamente eh al responsabile dell'ufficio tributi il quale ovviamente si preoccupava di consultare tutte le informazioni che lui riteneva rilevanti per il suo operato ma non di confrontarsi con i colleghi dell'ufficio tecnico o del ufficio o dell'ufficio urbanistica praticamente. Ahia allora Davide Giuseppe Turo è della città di Torino quindi mi secca molto che non non riesca a sentire perché eh sicuramente poteva anche darci qualche eh informazione interessante e quasi contemporaneamente comunque ci sono anche dei eh programmi di eh cooperazione eh che io lo ammetto io li ho visti partire con grande fiducia diciamo sei, otto, dieci anni fa mi pare che il Piemonte sia a buon punto in cui sostanzialmente le regioni e anche alcuni aggregati comuni dovevano cooperare nella gestione anche della cartografia catastale però hanno avuto una strada quantomeno eh accidentata poi casomai eh se avete buone esperienze su questi programmi di cooperazione in cui appunto i due enti l'agenzia del territorio o l'agenzia delle entrate che è effettivamente titolare del dato catastale e che ai fini della legge è anche uno degli enti cartografici dello Stato di fatto eh e invece le regioni che avevano proprio l'esigenza di creare cartografia e tuttora sono le principali produttrici di cartografia per eh perché eh è necessaria per una materia di loro competenza esclusiva che è il governo del territorio insomma si mettevano d'accordo per arrivare ad un catasto che fosse eh utilizzabile. Eh è possibile migliorare il catasto? È possibile rendere il sistema catastale e la cartografia catastale eh semplice eh aggiornata e utilizzabile facilmente così come tutti stanno utilizzando le cartografie ad esempio Google Maps? Cercheremo di rispondere a questa a questa domanda e eh valuteremo alcune cose e poi alla fine risponderemo di no. Ovviamente vediamo un po' nel corso di questa cosa che cosa succede? Scusate mi sono perso. Bene. Allora molti di voi l'hanno già eh l'hanno già visto eh il formato CXF è in pratica un file di testo posizionale. C'è anche un altro formato che sembrerebbe anche più più promettente che è il CML ma non ha mai preso piede anche perché comunque questo formato è molto semplice da leggere e eh che cosa succede? Eh l'informazione sta nella sequenza delle righe no? Per cui appunto se qualcuno di voi ha sviluppato dei software per geometri può essere che abbia già imparato a leggerlo questo file no? All'inizio mi viene detto di che oggetto stiamo parlando quindi c'è una mappa c'è il codice della mappa quindi codice comune e foglio 11 del comune H117 che se non erro è il comune di quarto altino che vedremo dopo e poi dice ti do un oggetto che è un oggetto bordo no? È sempre il bordo del foglio 12 è una cosa strana che non mi ricordo il numero è un codice identificativo insomma eh mentre invece appunto qui 154 o 303 è il numero della particella e poi appunto inizia una serie di coordinate o meglio la coordinata eh del centro la coordinata dell'etichetta che potrebbe non corrispondere poi via la riga di tutte le coordinate dei vertici accoppiate come vedete sempre in ordine posizionale quindi ci metto una X e una Y una X una Y una X una Y eccetera non è proprio esattamente eh diciamo il formato più intuitivo del mondo e soprattutto non assomiglia a nient'altro di di ciò che esiste esiste bene eh la cartografia catastale abbiamo detto è disponibile anche tramite un servizio interoperabile WMS tutti sapete cosa vuol dire Web Map Services oppure una cosa eh boh allora continuo a vedere persone che eh non riescono a sentire non riesco a capire se se può essere un problema del microfono mio vediamo eh no però eh francamente non mi lascia regolare il microfono provo ad alzarla un pochino ditemi se è cambiato qualcosa si si sente di più ma un po' più graffi chi ha eh chi ha problemi di audio ovviamente adesso scriverò in chat perché non non penso sentano che probabilmente è un problema è un problema è un problema delle loro impostazioni di di zoom e un po' più avanti Amedeo la chat adesso la seguo io per queste questioni sì sì tranquillo no no allora stavo ok allora magari eh lasciamo così che era un pochino un pochino meglio e e qui c'è sicuramente una storia molto importante anche di eh liberazione del dato perché perché eh l'agenzia delle entrate ha pubblicato questo servizio UMS che loro dicono viene direttamente dai loro sistemi e inizialmente l'ha pubblicata con una licenza che non permetteva eh di farci praticamente nulla nel senso che era una licenza CC BY NDNC quindi vietava l'utilizzo di opere derivate quella che state vedendo è un'opera derivata perché comunque io non ho fatto una semplice riproduzione della cartografia catastale ma all'interno del software QGIS di osso sottoposto vietava l'esecuzione in pubblico quindi appunto la scorsa edizione di questo di questo webinar Roberta si ricorda che era l'estate scorsa ahia forse ho qualche problema di connessione anch'io eh questa slide era vuota senza senza la figura oggettivamente ehm sì allora è una è un problema di qualità della connessione quindi stavo dicendo che eh la licenza iniziale di questo servizio WMS scrivetemi se dico degli acronimi che non conoscete insomma ehm era troppo restrittiva e quindi non consentiva nemmeno addirittura la visualizzazione eh in pubblico o in un'attività didattica come questa ma solo la consultazione diciamo per fini personali soprattutto la clausola NC non commercial vuol dire evita eh esclude tutti gli scopi diciamo di lucro il che significa che questa cartografia fino a settembre 2019 eh non era utilizzabile nemmeno nell'ambito della propria attività professionale per chi fa il topografo per chi fa il geometra il valutatore immobiliare per chi fa insomma ha la necessità di aggiungere eh questi elementi alla relazione che consegna al cliente spesso magari per fare un inquadramento perché ovviamente sulla singola particella e sul singolo frazionamento il professionista fa una visura che è soggetta anche a eh dei tributi catastali invece l'acquisto della cartografia il CXF che dicevamo prima è soggetto a delle tariffe cioè è un prodotto che viene venduto non ha nulla a che fare con la parte tributaria anche grazie alle pressioni nostre come GFOS in generale come comunità open data soprattutto Andrea Borruso l'associazione ondata e temo invece all'attività un po' più sotterranea di lobbying il che fatemi dire è un po' un peccato perché era una battaglia che potevamo muovere in maniera comune da parte invece dei grandi player dei software dei software dei rappresentanti in Italia di grandi player di software come Autodesk o Ezra eccetera fatto sta che dal settembre 2019 eh questa licenza è riutilizzabile da una licenza CC BY cioè questa immagine può essere eh visi riutilizzata purché eh si aggiungano eh si dia credito al titolare dei dati che è ovviamente l'agenzia eh delle entrate infatti qui io metto proprio il link al portale dell'agenzia delle entrate ok allora teniamo presente una cosa torniamo qua quello che noi vediamo in questo anche se abbiamo un livello che si chiama terreni abbiamo un livello fabbricati questa è la cartografia che esiste al catastro terreni ok non mentre invece il catastro fabbricati è una realtà separata dalla legge no e nasce per esigenze eh diverse rispetto a quella che è la cartografia nazionale che nella prima metà eh nella prima metà del ventesimo secolo in gran parte è è stata creata dall'istituto geografico militare e poi invece abbiamo detto sono subentrate eh gioco forza le regioni e quindi la cartografia più aggiornata adesso è prodotta dalle regioni normalmente no? E e quindi c'è anche proprio un problema nel senso che quando nasceva il catastro si iniziavano i primi rilievi non c'erano neanche dei dei punti di appoggio però ecco eh quello che noi stiamo guardando ogni volta che vediamo la mappa catastale è il nuovo catastro terreni allora io per vari anni mi sono chiesto quanto nuovo è questo catastro effettivamente è del 1866 quindi non è propriamente nuovo però eh è comunque il più nuovo che abbiamo diciamo no? Hanno impiegato circa una novantina d'anni a costruirlo poi qui ripeto magari abbiamo eh nelle abbiamo in sala abbiamo collegate eh persone più esperte di me sulla storia del catastro io ho approfondito pochino soprattutto per questo corso che eh aveva pubblicato a suo tempo parliamo del 2004-2006 Diego Magni sul sito del Politecnico di Milano il Polo di Como il sito non c'è non c'è più ma sul link delle slide trovate su archivi.org trovate ancora queste dispense che erano appunto eh distribuite con una licenza libera e ho capito un pochino ecco anche i i problemi davvero immensi che si sono trovati i topografi che hanno rifatto il catastro nazionale no? Soprattutto il fatto che dovevano fare dei rilievi e avevano eh diversi sistemi di riferimento che sono cambiati nel mentre cioè in quest'epoca dal 887 al 1956 è successo di tutto in mezzo prego e e quindi eh i rilievi cominciavano prima di avere appunto dei punti fissi di coordinate note a cui appoggiarsi eh cosa che è evidentemente essenziale non solo per la topografia tradizionale ma anche per i rilievi fatti adesso con GPS e con eh sì anche con i rilievi satellitari e con i droni in realtà avere dei punti fissi a terra di coordinate note è un'esigenza inderogabile spesso non ce ne accorgiamo perché chi usa un in topografia un vicevitore GPS ditemi se c'è qualche topografo che fa rilievi tra voi ma sono quasi certo di sì eh nel momento in cui lo accende riceve dalla rete di inquadramento le coordinate fisse di punti notti no per cui eh non ce ne accorgiamo ma questa cosa di avere una rete di inquadramento eh era ovviamente eh necessaria una cosa che cerco di dire è che comunque queste persone davvero dalla bravura inarrivabile e alcune biografie sono anche insomma eh studiate conosciute e divulgate insomma molti invece secondo me eh indebitamente sono rimasti anonimi perché le mappe di impianto non sono firmate no? E si sono trovate davanti a un bivio che probabilmente abbiamo tutti i giorni anche noi che lavoriamo con i dati che lavoriamo con i GIS facciamo le cose bene al meglio della qualità che sappiamo fare oppure portiamo a termine il lavoro e dotiamo l'Italia di una cartografia nazionale che all'epoca non c'era cioè eh hanno scelto la seconda strada io ritengo che tutto sommato sia stata una una buona scelta e eh per questi motivi però ci ritroviamo appunto con una serie di problemi per cui la cartografia non è assolutamente adatta all'uso in un GIS ripeto la cartografia catastale non è assolutamente adatta all'uso in un GIS quindi ci vi chiederete come mai stiamo facendo un workshop sull'utilizzo nei GIS della della cartografia catastale perché per fortuna appunto non serve avere sempre la qualità migliore del mondo ma eh eh abbiamo comunque l'opportunità di ottenere notevoli informazioni anche da dati eh incompleti di dubbi a qualità questa è proprio la caratteristica umana che eh tra parentesi nessuna intelligenza artificiale sarà in grado di sostituire. I problemi in genere sono il fatto che abbiamo proiezioni diverse a seconda dell'ambito in cui eh lavoriamo per cui finché uno lavora sul singolo comune e fa il tecnico comunale ok allora vediamo ha già una strada tracciata molti di voi probabilmente l'hanno già percorsa oppure l'hanno tracciata da soli eh quando un geometra comincia un topografo comincia a lavorare eh nell'ambito di una due province già ogni volta deve recuperarsi una serie di informazioni spesso con l'aiuto dai dei colleghi lavorare a livello regionale o addirittura nazionale comincia a diventare un'agonia e eh possiamo trovare diciamo solo delle informazioni un pochino di dettaglio perché eh alcune origini o meglio i punti di secondo ordine nel tempo no in questi novantani sono stati effettivamente smarriti no e i punti fiduciali nonostante la parola in realtà non hanno delle coordinate particolarmente eh affidabili. Che cosa c'è di buono? Di buono ovviamente ci sono i file che eh tracciano i triangoli tra un punto fiduciale e l'altro che derivano come appunto sanno tutti quelli che hanno fatto dei frazionamenti eh derivano direttamente dal libretto del topografo e vengono appunto memorizzati con il protocollo eh del dell'invio e quindi abbiamo queste misure tra un punto fiduciale e l'altro che sono estremamente precise estremamente attendibili a maggior ragione oggi che abbiamo degli strumenti di una cura abbiamo tutti degli strumenti da con un'accuratezza molto elevata e ci auguriamo che tutti i topografi li utilizzino con la coscienza che merita perché appunto eh io so per quel poco appunto che ho avuto a che fare con eh dei topografi eh che normalmente eh la domanda per perché la domanda a un topografo dice ma ma cosa serve? Quanto mi costa un rilievo eccetera? Il primo bivio è ok ma è un lavoro topografico o un lavoro catastale no? Ormai sono proprio due mondi diversi perché appunto è inutile che eh io vada a fare un lavoro particolarmente accurato quando nell'ambito del flusso della cartografia catastale poi i dati che raccolgono io vengono stirati per appoggiarli alla cartografia eh alla cartografia esistente. Quindi occhio i GIS si occupa di descrivere la realtà più precisamente che può alla scala più dettagliata possibile trattandosi di una cartografia digitale spesso perdiamo oggettivamente il concetto di scala che invece c'è sempre mi raccomando però perdiamo perché il software ci fa vedere anche la mappa uno a uno che invece non esiste. Il tasto si occupa in genere dei confini e della rendita di ogni particella cioè risponde a un'altra domanda dice ma quella particella lì di chi è a cos'è a quella data che qualità aveva che coltivazione c'era eh quanto doveva pagare di tasse no? Per cui è un po' come se noi avessimo due fotografie della stessa persona e eh da prospettive diverse allora non è che eh arriva il commissario logato di turno che dice ah beh fammi un fotomontaggio al computer ci metti la foto di profilo insieme con la foto di fronte cioè viene fuori un quadro di Picasso no? Siamo d'accordo su su questo per cui un primo consiglio che do ai pianificatori territoriali e a tutti quelli che si occupano in generale di urbanistica quando utilizzate i livelli che andiamo a vedere nel GIS possibilmente rappresentateli così cioè è una questione di comunicazione però chiunque è in grado è in grado di eh capire eh che stiamo parlando della stessa area chiunque è in grado di individuare gli stessi edifici nel eh lato nel nel riquadro a sinistra nel riquadro nel riquadro a destra e anche di farsi un'idea ipoteticamente che ne so qui abbiamo comunque una fascia di rispetto no? Dello svincolo autostradale che corrisponde in parte ai mappali già espropriati e in parte no? E quindi di capire un attimo dove sono i confini però quando noi li sovrapponiamo come poi vedremo rischiamo di dare sempre delle false eh delle false interpretazioni eccoci qua allora intanto come si fa no? Eh le coordinate che abbiamo visto su CXF eh sono in genere nella nostra zona cioè no non scusate perché eh qui abbiamo gente di tutta Italia eh allora eh le eh origini diverse che abbiamo detto prima eh sono eh origini in eh in sistema di riferimento Gauss-Guaga-Ovest oppure origini locali che si distinguono in grandi origini e piccole origini oppure comuni senza origine in cui sostanzialmente le coordinate sono espresse eh banalmente in eh distanza in metri dal bordo dal bordo del foglio no? Mh della della mappa di impianto per cui ragioniamo su un'origine locale perché di per sé che eh chi si ritrova con un catastro già in Gauss-Guaga eh Ovest potrebbe saltare in questo passaggio perché i sistemi GIS gestiscono eh correttamente un sistema di riferimento eh ditemi se eh non sapete nulla dei sistemi di riferimento che comunque devo rinviarvi al al workshop che è stato appena fatto per cui a quando a quando verrà verrà pubblicato su YouTube eh il video liberamente disponibile oppure non so se gli iscritti ce l'hanno in anteprima Federico o dammi un cenno eh però comunque eh chi eh ha il proprio comune il comune su cui sta lavorando che eh ha i dati già in coordinate Gauss-Guaga-Ovest ha eh delle coordinate utilizzabili diciamo direttamente in un GIS c'è poi il secondo passaggio che vedremo dopo che è risolvere questo disallineamento che vedete in figura sugli stessi dati che abbiamo visto prima praticamente no eh per le mappe con un'origine locale grande o piccola che sia occorre creare un sistema di riferimento personalizzato che eh consegni al eh software QGIS perché di questo ci occupiamo ma ci sono anche altri software geografici open source librerie server quindi potrebbe essere grass GIS potrebbe essere OpenJump che sono anche dei desktops OGU-SIG che sono anche dei desktop GIS open source comunque eh molto molto interessanti eh e eh una volta caricati i dati con questo sistema di riferimento personalizzato il GIS è in grado di sovrapporli ma ci ritroviamo con degli scarti anche importanti anche 20-30 metri per cui se io come dicevo nel momento in cui lavoravo per eh i comuni e per un concessionario che assisteva gli comuni nel recupero del lice del limo e se io dovevo andare a verificare eh la consistenza di un'area fabbricabile a partire da una sola posizione di questo tipo chiaramente era un po' come sparare eh alla cieca poi c'è da dire che anche questo tipo di lavoro evidentemente è un supporto ed è un lavoro conoscitivo molto interessante ma c'entra poco con la base impositiva dell'ICI e dell'IMU che eh riguarda invece il valore di mercato dell'area insomma quello che facevo io era comunque effettuare una stima dei metri quadri fabbricabili e confrontarli con un valore minimo fissato da una delibera comunale in genere questo è un po' il punto di partenza normalmente però il valore di mercato è diverso allora noi possiamo prendere questa cosa riproiettata traslarla ma nel momento in cui noi andiamo a toccare i vertici una cosa che deve essere chiarissima a tutto quello che stiamo usando non è più il catastro sono dei poligoni che ci aiutano nel nostro lavoro ma non abbiamo nessun modo di poter dire all'agenzia delle entrate che questa particella si trova qui perché abbiamo già modificato il dato per così dire ufficiale e qui entrano in gioco le persone tra le varie definizioni dei sistemi per informativi territoriali a me piace quella appunto che dice un GIS è un sistema di hardware software dati e persone che fanno parte del sistema informativo territoriale di un comune o di una provincia o anche di un'azienda per cui il tecnico ha un ruolo imprescindibile e fa un giudizio nel momento in cui fa questa sovrapposizione cioè lui deve nel campo delle aree fabbricabili che è quello a cui io mi sono applicato di più ed è quello in cui il GIS è più utile poi eventualmente fatemi domande per valutare altri campi deve trovare quella che era la corrispondenza tra la particella catastale e la rappresentazione del PRG che invece è su base CTR e qui veramente è una questione di esperienza di occhio di conoscenza della materia sia dell'urbanistica che del catasto insomma è una valutazione che non a caso viene firmata no per cui partiamo no con questa formazione che però vi assicuro né l'altra volta né oggi spaventa Roberta che ha sviluppato il plugin CDU Creator non si può fare il CDU così in automatico cioè butti dentro le cose ed esce il software praticamente non si può neanche continuare con la vecchia scuola no che prevedeva comunque l'utilizzo di avanzate metodologie ottiche per realizzare una sovrapposizione dinamica tra due poligoni di forma differente no allora che cosa andiamo a ragionare per prima cosa gli strumenti urbanistici secondo me credo anche Roberta sia d'accordo su questo devono essere digital first cioè bisogna cominciare veramente a essere in grado di gestire un progetto in ambito GIS con i vincoli con il link alle norme con le macchine con le mappe di base questo i tecnici comunali in genere lo fanno già ad uso interno in alcuni casi sicuramente a Torino è pubblicato su un web GIS anche per i professionisti privati però trovarsi nel 2021 scusate lasciato la slide vecchia a dover usare le tavole in pdf da una parte google maps dall'altra per farsi un'idea di che cosa dice il piano regolatore in veneto abbiamo pat ep in emilia romagna abbiamo piani operativi piani strutturali ps più in lombardia il pgt eccetera cioè dove scaricarsi degli elaborati in pdf per capire cosa dice il piano è davvero una sconfitta maggior ragione in alcune regioni come il veneto sicuramente credo anche friuli venezia giulia lombardia calabria emilia romagna toscana in cui è la legge regionale stessa sul governo del territorio a dire che i da gli strumenti urbanistici vanno gestiti con con strumenti GIS allora parlavamo di questa valutazione tecnica ecco dove è possibile su piccoli comuni o comunque su ambiti di intervento io ritengo che questa valutazione tecnica firmata dal tecnico può essere fatta in anticipo rispetto alla richiesta del singolo cdu e questo ci aiuta anche sì parlo come fossi ancora un tecnico comunale un consulente però insomma aiuta tutti noi professionisti a essere ovviamente imparziali no e non lasciarsi e non lasciarsi condizionare da chi firma la richiesta di cdu oppure su alcune parti insomma un piruea un accordo di programma cioè vado a fare una valutazione un po di tutte della qualità di tutte le particelle andando appunto a fare quel lavoro di allineamento che vediamo e questo consente è allora di compilare il cdu in maniera molto veloce semi automatica ma soprattutto in forma omogenea e coerente sia nell'ambito appunto del comune di riferimento e come dicevo prima lo possiamo a questo punto sì lo possiamo usare se noi abbiamo comunque questo catastro che viene sovrapposto e distorto modificato per tutti gli ambiti rilevanti del comune allora sì possiamo avere diciamo un acquaeri che mi restituisce un'idea del valore dell'area fabbricabile come si arriva a queste due a queste due cose sostanzialmente altre scusate altre possibilità per risolvere il problema del cdu e quindi mettere insieme la proprietà con la qualità urbanistica la proprietà di un'area con la qualità urbanistica di quell'area c'è chi proponeva adesso non li sento più si occupano d'altro di ridisegnare l'intero prg su base catastale è un sicuramente un'ottima strada mi se mi è sembrato un po costosetto utilizzare sempre fonti sulla ordinate cioè se la regione nel caso del piemonte comunque sul proprio geoportale mi mette a disposizione un catastro riproiettato che adesso non mi ricordo ma non viene chiamato catastro giustamente viene geometria per la pianificazione insomma un termine generico comunque faccio riferimento a quello oppure in regione Friuli Venezia Giulia appunto ci sono le trasformazioni studiate dall'università di Udine e quindi possono avere anche un metodo ufficiale ci sono i grigliati l'Igm che sono che sono perfetto ecco vedo un comune che ha fatto proprio questo lavoro di ridisegnare il prg ed è oggettivamente una strada che funziona e che aiuta anche magari i tecnici di Dantan l'importante è che riusciate a mantenere poi questa strada nel tempo man mano che cambia il catastro non sempre in meglio e si può ragionare caso per caso e farsi comunque un archivio storico dei cdv che faccio no e man mano vado anche a prendermi per cui oppure anche una cosa interessante che ragionavamo con Roberta e poi vi farà che lei poi vi farà vedere ha anche aggiunto una prospettiva d'uso del del cdu sostanzialmente noi possiamo semplicemente voi meglio tecnici comunali possiamo potete appoggiarvi direttamente alla dichiarazione della parte che richiede il cdu cioè io nel momento in cui uno mi fa la richiesta del cdu ovviamente gli chiedo di allegare una visura che i cittadini possono fare gratuitamente è bene ricordarlo praticamente esatto è il dato ufficiale è un problema vedo nella chat quindi il cittadino mi arriva lì con la richiesta di cdu anzi me la manda via pec o via sportello o via sportello unico ovviamente la richiesta di cdu la visura anche che lui può fare gratuitamente in quanto titolare della particella e questo è bene ricordarlo appunto che non tutti sono in grado di farlo da sole e mi dice anche esattamente su una cartografia su un ortofoto eccetera mi dà dei punti di riferimento per prendersi la responsabilità di dire che effettivamente la sua particella arriva a nord fino alla strada mentre al sud si ferma a circa quattro metri quattro metri e mezzo dal 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 fiume o dalla scolina praticamente dallo spigolo catastale cosa andiamo a usare per gestire il catastro sicuramente in QG si il plugin di fabio sacco detto paolo che ci consente appunto di importare già referenziare tutti CXF fa questa lettura praticamente vi ricordo che si usa tranquillamente gratuitamente chiede una registrazione per la riproiezione che io non vi farò vedere ma registratevi pure nel momento in cui vi registrate provate un attimo a tenere conto del fatto che il server con le origini che vi consente questa cosa ha un costo che questa non è più da tempo l'attività principale di fabio che è un bravissimo programmatore ma sostanzialmente preferisce fare l'architetto e quindi magari approfittate del pulsante di paypal per fai una donazione no cosa interessante per i Friuli Venezia Giulia ditemi se c'è qualcuno dal dal Friuli Venezia Giulia utilizza tutta una serie di parametri descritti appunto da una ricerca di Alberto Beinat dell'Università di Udine che hanno rilevato tutta la regione con lo scopo di calcolare i sette parametri di deformazione per ogni foglio catastale quindi arriva davvero a una precisione molto buona il secondo passaggio per cui chi ha la fortuna come magari gran parte della Toscana forse di avere il catasto in Gaswaga Fuso Ovest parte da qui Vector Bender che è un plugin di QGIS sì ok allora resegnatevi che c'è il discorso della visura gratuita per il cittadino gratuita solo per le particelle di cui è proprietario comunque sempre tramite portare agenzie all'entrata allora il plugin Vector Bender appunto consente di trasformare un vettoriale con dei punti di controllo ok benissimo allora prima di passare all'esempio altre domande in chat qualcosa ho detto qualcosa di sbagliato mi segna un attimo il discorso della visura casomai ve lo faccio vedere alla fine il tipo di servizio ok tutto tace possiamo cercare di passare alle nostre cose allora Vector Bender è abbastanza preciso dipende molto da come lo utilizziamo noi adesso vediamo un attimo dipende dalla cartografia che ho di riferimento per cui sì è abbastanza preciso però partiamo comunque da dati che hanno una tolleranza non da poco nel senso che se io mi allineo alla CTR comunque sto parlando di una CTR al 5000 anche se mi allineo a un geodatabase al 2000 comunque non ci metto la mano sul fuoco di raggiungere una scala equivalente al 2000 per cui un po' l'errore umano, un po' l'errore del pixel, un po' l'errore di proiezione per cui comunque è difficile arrivare a scale di intervento realmente catastale o topografico per cui a tutti i topografi in ascolto sì dovete ancora continuare a prendere pioggia e freddo se dovete fare un frazionamento ma l'utilizzo del GIS sicuramente vi può aiutare molto nel programmare quelli che sono i rilievi e anche nel ottimizzare ecco la fase di rilievo benissimo allora io qui ho già dei dati pronti però cerchiamo prima di tutto se lo trovo di attivare il plugin CXFIN e lo uso senza registrazione in maniera che potete vedere ok quindi questa è la schermata del plugin di QGIS mi auguro che lo conosciate già tutti l'interfaccia del software cerco il mio plugin per nome ma dovrebbe uscire anche se faccio una ricerca per fare le chiave scusa si vedono ancora le slide oh santo cielo grazie figurati allora c'è un problema nel senso che io ero convinto di aver fatto la condivisione di tutto il monitor evidentemente ok mi ha condiviso sulla finestra ok torno un attimo indietro adesso vedete una porzione di territorio in QGIS sì benissimo allora come dicevamo le installazioni di plugin si trova sempre dal menu appunto plugin gestisce installa plugin vedete anche la finestra in mezzo sì che qualche volta sparisce e lo trovo in elenco appunto con il nome di CXFIN in questo caso appunto io l'avevo già installato perché qui ho disinstalla e reinstalla e ho dovuto semplicemente abilitarlo lo stesso poi vi farà vedere Roberta con CDU Creator bene a questo punto ottengo un nuovo pulsante qui che mi apre questo pannello in pratica visualizzazione sfoglie che è organizzato in schede assolutamente ok quindi partiamo dalle informazioni c'è scritto appunto i contatti di Fabio il pulsante per la donazione le impostazioni lui mi da consente di dare uno stile di default mi consente anche eventualmente di cambiare alcuni aspetti della rappresentazione grafica caricando un QML dopodiché normalmente lui utilizza un database spatialite che è un formato del sì che è un formato standard è molto utilizzato in QGIS e utilizza appunto l'importazione dei CXF nel database spatialite qui vale la pena appunto registrarsi il server con questo pulsante che ridireziona verifica un attimo sì funziona ancora quindi basta compilare un attimo queste cose e poi compilare utente e password perché questa cosa di registrazione? perché all'epoca SACON ha valutato anzi era passato anche più volte in lista cioè la possibilità di riproiettare il catastro come abbiamo visto è alla portata di tutti perché io mi faccio appunto l'origine personalizzata e poi ognuno l'ha giusta un pochino a suo modo però far girare tanto le origini che in genere arrivano tutte comunque dal lavoro di Globo GIS che aveva a suo tempo fatto un sito che è fiduciali.it che è questo qua insomma da cui appunto sono ricavabili i punti delle origini poi ci ritorniamo sopra il fatto che poi di fatto girano queste origini ognuno le modifica un pochino a modo suo eccetera crea sicuramente confusione per cui il fatto che le origini restano sul server di Fabio è un punto di riferimento univoco ma quello che facciamo adesso invece c'è la possibilità di caricare il CXF senza riproiettarlo che è esattamente quello che serve a noi ai fini dell'esercizio di oggi praticamente che andiamo a fare noi la riprodizione e soprattutto nel caso di specie vi faccio vedere è praticamente necessario quindi allora carica CXF in memory mi si apre la finestra del mio sistema operativo con il file manager e io qui ho già praticamente alcuni file H117 che è appunto il comune di Quarto Daltino e questo 6479Q è il quadro di unione questo è il foglio 11 e questo è il foglio 12 come vedete insomma c'è una nomenclatura abbastanza abbastanza intuibile vi faccio vedere per prima cosa il quadro di unione lo carichiamo e in questo momento lui mi chiede di scegliere il sistema di riferimento da utilizzare come abbiamo visto il CXF del quarto daltino ha delle coordinate locali addirittura delle coordinate negative in genere mi pare sia sulla X che sulla Y praticamente vuol dire che è al di sotto e più a ovest dell'origine qui posso scegliere qualsiasi riferimento di coordinate purché sia in coordinate metriche cioè in questo momento lui non fa altro che leggere le coordinate che ci sono lì e quelle sono effettivamente espresse in metri e poi mi posizionerà nel mondo in base al sistema di riferimento mi posizionerà nel mondo i poligoni che lui riesce a leggere chiaramente vado a utilizzare il formato il sistema di riferimento Gauss-Vaga Fuso-Ovest quindi EPSG 3003 quindi basato su Montemario la zona 1 che è quella ufficiale di Regione Veneto perché mi aspetto poi di fare un confronto con la cartografia ufficiale di Regione Veneto che è in Gauss-Vaga Fuso-Ovest se fossi in Filivenezia Giulia o comunque nella parte est potrei usare Gauss-Vaga Fuso-Est e probabilmente otterrei lo stesso risultato in ogni caso in questa fase bisogna andare un pochino per tentativi assolutamente quindi faccio clic su ok e vedete appunto che alcuni dei fogli del comune di Quarto Daltino sono effettivamente già in questo sistema di riferimento come dicevamo prima in Gauss-Vaga Fuso-Ovest mentre allora questo è tutto l'intero gruppo che è stato caricato che mi crea CXFIN quindi lasciamo stare questo che solo in caso non avessi cose funzionate quindi in questo caso lui ha riempito solo il livello funzione quindi se gli do mostra totale elementi mi dice che io ho 27 oggetti mentre invece il livello particelle dovrebbe essere vuoto sì siamo a 0 e tutti gli altri benissimo questi 27 fogli non hanno tutti lo stesso sistema di riferimento questo quando si ha a che fare con il catasto è praticamente la norma anche perché le province non sono le province che ci sono adesso insomma cioè tutta la qualità del dato catastale ha delle particolarità perché non dico degli errori perché per tutto il discorso che ho fatto prima in cui tutto sommato appunto ci sono delle ragioni storiche per cui abbiamo ecco queste particolarità e soprattutto perché non c'è nessuno che ha il compito di gestire e di fare manutenzione sul catasto non a caso la fase in cui il nostro catasto si trova adesso è la fase di conservazione che avviene dopo appunto la fase di impianto e altre fasi ancora per cui il catasto viene conservato a temperatura abbastanza rigida quindi dove sono gli altri fogli tasto destro zoom su layer e ovviamente li trovo qui nei plessi delle coordinate 00 nel golfo nel golfo di guinea in pratica gli altri fogli perché perché hanno appunto invece come abbiamo detto hanno una origine locale tutto chiaro fino a qua qualcuno si è perso è chiaro più o meno che cosa è successo noi abbiamo fatto l'import del CXF sono state lette queste coordinate che se vedete sulla finestra in basso di QG hanno coordinate negative intorno a meno 18.000 meno 44.000 45.000 no 45.000 scusate no 45.000 a me parea sì meno 19.000 meno 45.000 quindi ci troviamo sostanzialmente un 45 chilometri più in basso dell'origine e un 20 chilometri a sinistra dell'origine bene a questo punto qual è l'origine del comune di quarto d'altino questa è qui inizia normalmente inizia comunque un'avventura investigativa perché o lo chiedo a un collega che lo sa già oppure devo comunque farmi delle idee e delle cose allora la fonte principale in Italia e vanno ringraziati perché questa è un'azienda che fa il suo mestiere che fa software proprietario e ha deciso comunque di pubblicare le origini di pubblicare le coordinate di gran parte di tutti i fiduciali che loro hanno provveduto a già riferire e anche appunto le coordinate delle origini che loro hanno calcolato con un processo di reverse gini. quindi questa per esempio no 2645 è l'origine del comune di Monastier che è sicuramente bella interessante ma non c'entra niente con quarto d'altino questa sembrerebbe l'origine locale di Roncade anche questa bella interessante confina con quarto d'altino ma ahimè vedete che su quarto d'altino non abbiamo la nostra origine locale e andando un pochino per esclusione scopriamo che dobbiamo riferirsi a una delle grandi origini praticamente che è Pordenone. ora non so l'anno della mappa di impianto del comune di quarto d'altino ma forse pure il 1960 capite che farsi 40 chilometri con il Teodolite insomma che la stazione totale non c'era qualche qualche tolleranza me la comporta nelle origini e adesso per cui è grasso che cola se ci troviamo un dato fatto bene così. perfetto allora una volta che noi abbiamo trovato la nostra origine dobbiamo recuperare due dati essenziali dell'origine cioè la longitudine e latitudine espresse in WGS 84 allora qui devo ammettere siccome c'è un orientamento a Genova e c'è anche un calcolo sull'elisoide di Bessel nelle coordinate catastali sarebbe bello inserire anche questi dati nel flusso di lavoro io devo ammettere non lo so fare ci ho studiato un po' e per cui uso banalmente questo lat e long e mi trovo e mi trovo anche benino poi il procedimento si può sicuramente migliorare nella mia esperienza preferisco poi appunto fare una correzione finale con Vector Bender quindi che cosa dobbiamo andare a fare dobbiamo andare a creare una proiezione personalizzata che si crea da qui allora abbiamo preso nota di lat e long e dal menu impostazioni abbiamo un menu che dice proiezioni personalizzate definizione sistema di riferimento personalizzato delle coordinate io qui in realtà ce l'ho già sostanzialmente però quello che io devo andare a recuperare è questa tipologia di stringa che adesso andiamo ad analizzare poco alla volta quindi io faccio un clic sul più verde, creo un nuovo sistema di riferimento, il formato più semplice è la stringa di proiezioni di project for che è quella che è quella che avete visto prima perché al momento il vkt che è invece un formato più esteso diventa un po' più complicato da fare per cui la stringa di project for accetta dei parametri che iniziano con una più e project for adesso siamo alla versione 7 iniziano con una più, nome del parametro e valore del parametro, quindi il primo parametro è la proiezione effettiva il software conosce già le equazioni per calcolare la proiezione di Cassini-Soldner per cui il valore di proiezione sta cas per Cassini dopodiché abbiamo la longitudine e la latitudine di origine che andiamo a inserire senza problemi nei gradi decimali che troviamo da qua quindi fin qui tutto bene e lo stesso per la latitudine quindi un altro, un ulteriore spazio, latitudine 0 che sono appunto le latitudini dell'origine a questo punto corrisponderanno le coordinate ovviamente 0,0 nel nostro sistema di riferimento ok, ci siamo dopodiché project for consente di aggiungere anche una falsa origine che qualche volta può essere utile quindi ad esempio appunto nel formato, nel sistema di riferimento Gauss-Boaga, Fuso-Ovest mi pare la falsa origine 15.000, 150.000 viene usata per non avere coordinate negative rispetto al fuso di riferimento e nel nostro caso la falsa origine è 0 perché abbiamo coordinate negative nelle coordinate catastali e gli do come parametro l'elissoide internazionale perché è quello in cui io ho preso latitudine e longitudine quindi io in questo caso sto ragionando veramente come se fossimo su un piano cioè sto comunque assimilando la proiezione del comune di quarto altino su cui la curvatura insomma incide poco la sto assimilando a un piano e quindi ci metto un piano tangente all'origine non, scusate, sto usando un piano tangente all'origine su Pordenone verrebbe meglio con un'origine locale perché su 40 km capite anche voi che già ci vorrebbero delle correzioni riguardo l'elissoide e l'orientamento però sono sincero io ho studiato un pochino non ho imparato a farlo e non l'ho mai dovuto non ho mai ritenuto necessario perché comunque questo mi ha sempre dato un risultato sufficiente per arrivare a fare quella valutazione che dicevamo prima poi abbiamo le unità di misura è un sistema metrico e poi basta c'è un nodefs nel senso che non abbiamo da aggiungere altri parametri quindi questo lo chiamiamo nuovo SR facciamo una validazione la sintassi è ok quindi se io mi fossi dimenticato qualcosa ad esempio dimenticato un più oppure dimenticato un parametro forse vediamo con le unità di misura no, è sempre valido allora scusate, mi sa che la validazione ha il vantaggio che ha e quindi andiamo a fare ok a questo punto io posso prendermi il mio layer apro le proprietà del layer succede lo stesso anche con doppio clic e anziché cambio il sistema di riferimento prima io l'avevo impostato in gosbaga fuso ovest adesso devo andare a recuperarmi dall'elenco di tutti i sistemi di riferimento di QGIS devo andare a recuperarmi il mio sistema di riferimento personalizzato che lo trovo intorno, in fondo nel gruppo sistemi coordinate definiti dall'utente ve lo rifaccio vedere apro la lista dei sistemi di riferimento e all'interno dei tre gruppi che ho qui geografiche proiettate o definite all'utente trovo il sistema di riferimento che ho definito così come nuovo SR all'interno del gruppo sistemi coordinate definiti dall'utente lo applico al mio layer quindi l'ho selezionato qui faccio ok e a questo punto un attimo che facciamo così giusto per trovarsi eccoci qua a questo punto appunto il confine del mio foglio di interesse potrei anche etichettarli perché hanno ovviamente un attributo quindi mappale, allegato, sviluppo, eccetera quindi ciascun CXF, ciascuna mappa iniziale del catastro può rappresentare un foglio intero oppure un allegato, uno sviluppo che sono porzioni del foglio rappresentate in genere ad una scala più dettagliata diciamo così e in questo caso appunto è tutto valorizzato a Q che sta per quadro di unione però sicuramente noi possiamo etichettarlo con il valore HTXT che rappresenta appunto il foglio 12 qui esce proprio perché i valori erano posizionali in pratica per cui mi pare che o forse era questa vediamo no, non è questo, scusate allora perché allora qui il nome dei campi è sballato rispetto sì sì finisce su HTXT che invece vorrebbe dire qualcos'altro invece negli altri avremo ovviamente l'elemento no, è 12 dappertutto vabbè, è sparito, scusate eccolo, cioè sta qui su mappale quindi non abbiamo in realtà il nome del foglio abbiamo tutto il nome del file quindi 11, 12, 01 e 13 praticamente benissimo i CXF che abbiamo noi comunque e che vado a recuperare di nuovo per importarli in memoria sono l'11 e il 12 questo lo rimuoviamo perché rischia di crearne confusione import a file CXF2 quindi andiamo a prendere questi due fogli posso ovviamente caricare tutto il comune insieme o teoricamente anche più comuni a questo punto facciamo subito un tentativo cioè gli assegniamo direttamente il sistema di riferimento personalizzato che abbiamo usato prima ve lo ricordate? l'abbiamo visto qui qui me lo mostra in tutte e due le definizioni eccoci qua a questo punto abbiamo effettivamente tutti gli stili già preimpostati da Fabio in pratica e che ci consentono appunto di leggere anche gli stili le cose oppure le scritte cartografiche ci sono anche qui dei punti fiduciali e ci dà la possibilità anche di interrogare ho perso probabilmente una barra degli strumenti che è quella dell'interrogazione ah no sì non era attivo scusate ok e ci consente appunto di interrogare e di conoscere gli attributi dell'elemento qui abbiamo foglio 11 mappale 36 in pratica con anche le coordinate X e Y del centro del centro del mappale domande fino a qui dubbi problemi sogni nel chassetto voi avete fatto di meglio buonasera posso? vai sono Salvucci lavoro all'Istat e mi occupo del registro edifici ho lavorato a lungo con SACON proprio sul CXF in ah bene grazie complimenti grazie no ma il mio è stato un contributo limitato nel senso che sono stato un utilizzatore abbiamo georeperito i 300 mila fogli del cadastro e noi usiamo una tecnica leggermente diversa e questa era la domanda cioè la necessità io sono un geografo ma non sono un topografo quindi dirò delle banalità lei ha fatto vedere ma come fa anche Fabio la ricerca dell'origine io personalmente come origine prendo un punto fiduciale qualsiasi e gli abbino il falseste e il fals nord come coordinate del Cassini e mi avvicino abbastanza rispetto alla posizione reale probabilmente è un'eresia quella che faccio no secondo me no anzi cioè diciamo è una cosa a cui non avevo mai pensato poi dipende effettivamente quindi dicevamo è un'ottima strada secondo me dicevamo all'interno della proiezione personalizzata questo più X e più Y metto i punti di un punto fiduciale che magari conosco perché è stato ribattuto lo prendo da fiduciali come come avete preso l'origine sostanzialmente non è diverso sì questo perché ci consente diciamo preferiamo avere un'origine locale per ogni foglio però c'è un problema che probabilmente anticipo quello che farai vedere dopo cioè che sono tutti i casi in cui bisogna votarli invece questi fogli perché non sempre basta una traslazione sì 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 no appunto per via del processo di formazione del catastro ci sono vari casi poi se riesco ne faccio vedere uno no beh stiamo già andando lunghi ci sono vari casi in cui le deformazioni anche all'interno dello stesso foglio non sono per nulla coerenti perché chiaramente tutto avviene all'interno di un triangolo fiduciale per cui allora effettivamente è molto interessante nel senso che il fatto di utilizzare un'origine per foglio è indubbiamente più accurato e in questo caso come dicevamo c'è quindi un sistema di riferimento per ogni foglio e in questo caso sì latte long restano comunque cioè lei le valorizzo oppure no del latte long sì sì le valorizzo cioè praticamente l'origine è fittizia non esiste l'origine ok io prendo un riferimento che è il punto fiduciale ma in realtà sto puntando al ritroso al punto da cui lui è partito come origine perché noi ci siamo ritrovati con degli aggiustamenti lavorando su tutta Italia zone in cui hanno aggiunto non ne so 50.000 più 500.000 tanto per avere un numero sì che non abbia no sì e allora andare a ricercare noi abbiamo trovato dei comuni che hanno un'origine ma in realtà ne usano un'altra sì anche questo accade allora cioè diventa molto più laborioso questa indagine diventa quasi un'indagine di polizia cioè veramente sì allora al punto uno prendo un'origine fittizia più o meno lo sistemo ecco questo è un po' sì sì no 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 allora mi piace mi piace molto anzi cioè appunto l'ottica era quella dello scambio per cui effettivamente io se vado qui questo è un sito con cui ho collaborato io ma ce n'è vari siti che pubblicano le origini dei punti dei punti fiduciali praticamente e quindi da qui ottengo comunque in questo caso con un doppio clic comunque l'on and at di questo punto fiduciale da poter utilizzare diciamo come come origine poi le coordinate le coordinate catastali del punto che qui forse non le ho neanche visualizzate no perché stanno sostanzialmente all'interno della monografia vediamo se si apre le coordinate catastali del punto diventano il false x il false y sì sicuramente per un lavoro su tutta Italia è molto è molto è molto interessante chiedeva Antonio signor Salvo che che tipo di software avete usato se lavoravate anche voi in QGIS allora noi purtroppo con grande rammarico noi stiamo lavorando in QGIS e peraltro abbiamo abbandonato Sakon lo sa il suo plug-in preferendo un plug-in sviluppato dall'ingegner Cima sì certo questa volta per il QGIS che era il vecchio convergo sì praticamente lui ci crea uno shapefile senza origine ok e io copio un PRJ vuoto con uno script di Python sì e gli dico qual è l'origine in gradi del punto fiduciale e gli aggiungo il false x che è false x false x che sono le coordinate le coordinate catastali dopodiché noi lo andiamo a rivedere su noi siamo con l'archeggista in istituto come è la stessa cosa misuriamo quant'è lo scostamento da un punto che riteniamo omologo e facciamo un aggiustamento no cerchiamo di aggiustarlo il più possibile però ripeto quando c'è la rotazione naturalmente i fogli adiacenti avranno origini diverse perché trasformiamo diciamo la rotazione con una diversa traslazione ecco allora sicuramente il metodo di Vector Bender può diciamo tornare utile anche a voi oppure un metodo analogo che richiede una trasformazione che posso noi inizialmente facciamo una maniera diversa che era simile a Vector Bender e praticamente cercavamo di riprendere le coordinate dei punti fiduciari le più corrette possibili e in automatico con con un plugin di archeggist che è simile a Vector Bender creavamo dei vettori che io prendevo il punto fiduciale dal CXF posizionato su 00 e lo posizionavo in automatico su quello che avevo trovato e quindi lo traslava in quel modo si riusciva a fare anche la rotazione quindi l'esigenza sarebbe quella di condividere però una banca dati di punti fiduciari il più accurata possibile ecco questo sarebbe sì allora lì effettivamente progetti open non ne vedo ci sono vari portali che appunto utilizzano i file TAF poi casomai vediamo alla fine se ci avanza un po' di tempo appunto no sì sicuramente per ruotarlo si può fare sulla base dei file e dei file TAF di cui appunto ricordatemi proviamo a parlarne brevemente dopo però io devo mettere non ho abbastanza competenze topografiche per arrivare a degli elementi a quegli elementi allora io prima di utilizzare Vector Bender vado a riproiettare il il layer di particelle fabbricati mi limito a questi perché in genere gli altri oggettivamente non ho molta esperienza come dicevamo per l'utilizzo urbanistico e lo riproietto in Gauss Baga Fuso Ovest qui tengo i memory layer ma ovviamente nulla vieta di salvarli in Geo Package o altre cose e vediamo un attimo recuperiamo questi fabbricati qua e riproiettiamo pure questi ecco adesso scusate i colori psichedelici ma per brevità non mi metto a e quindi proviamo un attimo a lavorare su questi che sono riproiettati andiamo a vedere allora come lavora Vector Bender lui mi consente di selezionare dai layer dai layer aperti in un layer da riproiettare questo layer me lo sta dicendo qua sotto the layer to bend must be in edit mode quindi deve essere prima di tutto in modalità modifica lo posso mettere in modalità modifica da qui oppure anche posso arrivare da qui praticamente e poi mi chiede allora di un un layer su cui da cui prendere le coppie le coppie di punti omologhi eppure e ho la possibilità eventualmente di andare a creare un nuovo un nuovo layer praticamente no su cui vado direttamente sulla base dei fabbricati io qui vado ad utilizzare la base OpenStreetMap per fini di dati ma ovvio che magari è opportuno avere una base più precisa degli elementi da prendere utilizzare lo snap insomma cose che presumo che siano già conosciute in pratica e ok poi casomai do la parola ad Antonio perché non ho capito bene cosa ho scritto e quindi vado a mettere appunto un alcune linee no che VectorBinder mi rende graficamente anche in in questa maniera praticamente allora io qui gli ho dato due punti e quindi sono già in grado di fare una semplice traslazione praticamente che però non è ovviamente sufficiente perché quasi certamente io avrò anche un minimo un minimo di rotazione quindi vado ad aggiungere un'ulteriore coppia di punti quindi adesso ne abbiamo due e VectorBinder in base al numero di punti già mi dice più o meno qual è il tipo di trasformazione che è in grado di realizzare con due con due copie di punti si può effettuare una trasformazione lineare in pratica e posso aggiungere tutti i punti che in qualche modo ritengo ritengo necessari ovviamente la cosa a cui stare attente a cui fare particolare attenzione è che se comincio ad aggiungerne più di tre se non erro però qui vi lascio provare da soli sostanzialmente lui adotta una trasformazione a foglio di gomma cosiddetto che però non è uniforme per cui se comincio a fare più di tre punti in realtà devo coprire quanto meno tutto il perimetro del foglio insomma poi vi lascio vi lascio provare da soli perché non fa altro che una triangulazione di dell'unè praticamente che va a che va a utilizzare scusate qua mi sa che ho sbagliato ad applicare la trasformazione che va ad che va a dividere il foglio appunto con più di tre punti va a dividere il foglio in tanti triangoli e applica deformazioni differenti a ciascun triangolo per cui io consiglio comunque una trasformazione lineare oppure una rototrasdazione se da più di tre punti però necessariamente il consiglio è provateci un attimo su una porzione come sto come sto facendo qua ecco vedete con tre coppie di punti effetto una trasformazione fine quindi una rototrasdazione con cambiamento di scala ditemi se topografi e matematici all'ascolto se dico qualcosa di sballato correggetemi perché può sempre succedere ovviamente no e qui siamo andati un pochino adesso scusate ma c'è qualcosa c'è qualcosa che mi va storto ogni volta anche l'altra volta era andata storta nel senso che dove l'abbiamo messo e questo ha a che fare con la riproiezione al volo al volo di di QGIS praticamente per cui evidentemente ho saltato qualche passaggio vediamo un attimo le proprietà del vector band eccolo qua la rogna allora il vector band ha applicato questa trasformazione su coppie di punti omologhi che lui per le mie impostazioni di default di QGIS sì non è un male che sia che sia immersa questa cosa allora ricominciamo allora tutti i layer devono stare per far funzionare le cose tutti i layer devono stare nello stesso sistema di riferimento un attimo che mi riproietto i fabbricati perché sennò veramente si rischia di perdersi poi cosa era successo nel momento in cui io vi ho fatto vedere che si può creare il nuovo layer di vector bander con questo tastino qua lui me lo crea ma a mia insaputa me lo imposta con un sistema di riferimento in coordinate geografiche perché ho sbagliato io le impostazioni default di QGIS quindi mi assicuro di metterlo nel sistema di riferimento del progetto a questo punto se non facciamo davvero una figuraccia a questo punto il vector bander è in grado di lavorare però la sequenza delle operazioni l'avete l'avete vista sostanzialmente e che funzioni o che non funzioni mi tocca chiudere qui quindi ci ci fermiamo con allora una nuova linea e quindi ci metto abbiamo detto no questo è già riproiettato ancora scusate allora prendiamo le particelle questa volta simbologia un riempimento con cornice ok e facciamo un lavoro molto veloce qui non ho riferimenti per il limite di particella come potete rendervi conto quindi faccio un lavoro molto approssimativo perché mi interessa farvi vedere la cosa e a questo punto abbiamo detto cos'era particelle 3009 new ok questo ce l'abbiamo possiamo anche salvare gli elementi un'ultima attenzione con vector bender qui abbiamo quindi una trasformazione lineare è questo pin praticamente cioè se io lo flaggo lui poi mi fa collassare le linee accoppiando le coppie di punti quindi mi riproietta mi trasla anche i punti di partenza e questo assolutamente non è raccomandabile né se utilizzate solo alcune parti perché mi è capitato anche questo cioè mi è capitato appunto di dover utilizzare delle deformazioni differenti all'interno dello stesso foglio ad esempio nei comuni a perimetro aperto in provincia di Como e in quel caso appunto io utilizzo alcuni elementi dell'air vector bender per un ambito di trasformazione mentre invece magari dall'altro lato della strada utilizzo altri elementi perché hanno magari delle rotazioni delle deformazioni non contraddittorie per cui io posso utilizzare per la trasformazione anche solo gli elementi selezionati comunque in ogni caso è meglio tenersi queste linee quindi le coppie intere di punti omologhi e non farle collassare a singolo punto è meglio tenersele anche per una ragione appunto di storico nel senso che io in questo modo posso ricostruire in ogni momento il tipo di trasformazione che è applicato ed è quello che io effettivamente facevo quando lavoravo sulle aree fabbricabili perché mi aspettavo ed è avvenuto mi aspettavo che arrivasse qualche altro professionista il tecnico di parte o il tecnico comunale a dire ah no ma tu hai stimato un'area fabbricabile di 20.000 metri quadri lì a me ne risultano 16.000 capirete che la differenza è anche un pochino importante quando si tratta di pagare le tasse in realtà come dicevo in realtà no perché le tasse si pagano sul valore di mercato però avevo la necessità poi di ricostruire insieme al tecnico il tipo di lavoro effettuato quindi adesso vediamo se succede la magia no ok me ne posso posso ritirarmi con una cosa no ok posso ritirarmi con un minimo di successo quindi vedete questo è più o meno il workflow che ho utilizzato io molto interessante appunto la proposta di Istat poi alla fine siccome penso che Roberta non abbia bisogno di due ore per la sua parte riprendiamo anche quell'elemento lì io vado a cercarmi anche le altre due cose che avete chiesto e anche l'utilizzo dei file dis e dei file taff che sono quelli che ci danno appunto le coordinate effettive dei fiduciali l'idea a partire da questo e francamente se abbiamo Istat che in qualche modo può fare da sponda GeForce It assolutamente non si tira indietro anzi corre alla grande l'idea di avere un repository comunque aperto in cui la banca dati dei fiduciali sia aggiornata e migliorata anche in forma collaborativa è sicuramente da valutare e da portare avanti domande veloci qualcosa che ho sbagliato prego scusa no ma solo per completare adesso che avete utilizzato Vector Bender per spostare sì ma l'origine è rimasta sempre dove stava no? allora l'origine è rimasta dove stava io ho riproiettato prima di applicare Vector Bender esatto e quindi l'origine è rimasta dove stava ma soprattutto da quando io ho riproiettato questo livello non è più un dato catastale mentre invece questo livello è tuttora un dato che ha una certa ufficialità perché questo livello qui corrisponde esattamente al CXF che io ho scaricato è solo una questione di visualizzazione che me lo mostra così no? per cui ecco è molto importante prego è un prodotto derivato? ah è vero anche questo ci sono dei problemi di licenza ecco è perché a partire da qui è un prodotto derivato sicuramente allora la domanda è più complicata dell'ipotesi che Istat facendo tutti i percorsi autorizzativi e quant'altro decida di liberalizzare i punti fiduciali che abbiamo calcolato noi non lo possiamo fare perché è un prodotto allora i punti fiduciali credo abbiano una licenza una licenza diversa però bisogna studiarci su sicuramente o meglio noi siamo disponibili a questo dialogo voglio dire ma certo ma assolutamente lo dovremmo cercare noi ogni anno dobbiamo georiferire nuovamente 300.000 fogli e non possiamo rifare i vettori ogni anno quindi noi creiamo questi SR diciamo tra virgolette personalizzati esatto ogni foglio perché più o meno mi va di se io riesco cioè se io riesco io l'ho fatto già il software per spostarli prendendo i codici dei CXF dei punti fiduciali li rimettiamo sempre nello stesso costo però non è che abbiamo visto ad occhio 300.000 fogli ne abbiamo visti quelli che dai nostri diciamo indicatori di qualità ci dicono sei finito fuori dal comune stai al cavallo di una sezione o stai sotto una strada perché noi abbiamo visto una quantità minima è chiaro che se il progetto di Saccone si allarga in una visione cooperativa io credo che ne trae beneficio chiunque perché tutti abbiamo l'esigenza di già riferire questi elementi quindi da parte nostra siamo disponibili grazie sì allora effettivamente c'è da studiare l'aspetto legale dell'opera derivata della licenza IPF a me sembra che IPF quindi nei file che poi vedremo sono comunque diciamo nel pubblico dominio poi c'è sicuramente una differenza tra gli scopi istituzionali di Istat e altri scopi però appunto io credo che nel vostro caso il percorso va più che bene cioè quello di trovare un'origine per la riproiezione e poi di procedere con una con una trasformazione a fine nel caso delle regioni questo problema di distribuire proprio anche l'opera derivata però all'interno credo anche del progetto Sigma Terra comunque hanno trovato una quadra per cui sentiamo anche Campus che potrà essere in Gifossa in regione Piemonte e quindi probabilmente ha trovato anche la quadra dal punto di vista legale per distribuire appunto un dato che non viene chiamato dato catastale per cui questo è cioè è ovvio che chi pubblica cioè al momento appunto Rossi che mi pubblica queste coordinate qua e che gliele calcolo io in maniera molto molto approssimativa chi le pubblica se ne assume la responsabilità e non e non c'è confusione tra questo e l'effettivo dato catastale per cui oggettivamente non non vedo il problema se Istat all'interno dei suoi scopi è in possesso di questa banca dati e nel rispetto appunto di quello che è l'articolo 58 del codice amministrazione digitale decide di renderla accessibile e disponibile con tutti i caveat e i disclaimer anzi sicuramente in quest'ottica Istat può ottenere diciamo un certo controllo da parte dell'utenza per poter dire ok guardate che il foglio 17 del comune di Pravis Domini è corretto nel foglio principale ma è errato nello sviluppo A per esempio cosa che difficilmente appunto con 300.000 fogli da riferire difficilmente potete valutare voi da soli io vi manderei a prendere un caffè oppure comunque a fare un pochino di pausa nel mentre passo lo schermo a Roberta e poi alla fine comunque ci prendiamo del tempo per riprendere queste cose di file di setup per chi non le conosce se più non c'è qualcosa di urgente Federico di la tua no perfetto direi che sono le 4 e 5 facciamo 10 minuti di pausa una quarta d'ora perfetto io direi che alle 16 e 15 ci ritroviamo qui chiudo la mia condivisione nel frattempo appunto mi preparo su quelle due cose che sono state state chieste e un grazie mille a Istat e al dottor Salvo per essersi palesato e perché da qui inizierà sicuramente una collaborazione da cui ne traiamo beneficio molto volentieri grazie a più tardi grazie direi di riprendere il webinar lascio la parola a Roberta e niente se c'è bisogno sono qua è arrivato anche Stefano Campos a darci una mano e bene grazie mille grazie a te Federico e allora buongiorno a tutti mi presento velocissimamente sono Roberta Fagandini di GTR e come GTR abbiamo appunto sviluppato il plugin di QGIS CDU Creator prima di condividervi lo schermo e iniziare diciamo a entrare nel vivo della parte su CDU vi racconto brevemente la storia come è nato CDU Creator è stato diciamo un'iniziativa assolutamente così spontanea diciamo di di GTR che è un'azienda che appunto si occupa di geomatica principalmente abbiamo diciamo due due settori principali che sono appunto quello degli applicativi delle applicazioni GIS e web GIS e poi il settore invece di posizionamento satellitare e diciamo io ovviamente faccio parte del settore GIS chiamiamolo così e abbiamo spesso a che fare sia come clienti così come collaborazioni con pubblica amministrazioni per i quali abbiamo diciamo lavoriamo spesso in ambiti anche diversi dall'urbanistica ma poi ovviamente così parlando a un certo punto ci siamo spesso resi conto che un po' il nodo comune a tutti era appunto il tema dei certificati di destinazione urbanistica la loro compilazione e la gestione in generale del dato catastale ma anche urbanistico la premessa che voglio fare è quella che faccio sempre quando in qualche occasione presento cdu creator è che appunto con questo plugin insomma lungi da noi avere la presunzione di voler risolvere tutti i problemi soprattutto legati al dato catastale di cui ci ha parlato appunto Amedeo nella prima parte del webinar semplicemente cdu creator vuole essere uno strumento che in qualche modo aiuti faciliti i tecnici comunali i liberi professionisti comunque che si occupano appunto di certificazioni di destinazione urbanistica appunto che faciliti in qualche modo la compilazione di questo tipo di documento proprio per questo come ci ha anche detto prima Amedeo il plugin non ha assolutamente la presunzione di creare un documento pronto all'uso nel senso che poi ovviamente ci sarà sempre bisogno in molti casi soprattutto magari quelli più complicati penso magari a comuni più grossi quindi anche con una normativa urbanistica più complessa c'è sicuramente bisogno poi di un occhio umano diciamo che interviene su insomma aggiungendo insomma limando eventuali problematiche o imprecisioni quello che fa il plugin di fatto aiuta la compilazione nel senso che gestisce poi di fatto quello che in molti casi si sente chiamare carotaggio ai fini del cdu quindi l'estrazione dal dato urbanistico di tutte le informazioni necessarie appunto alla compilazione come vi dicevo il plugin è un plugin QGIS è quindi ovviamente open source il codice è disponibile su su github e come tutti i plugin di QGIS viene installato insomma dal gestore dei plugin e in quanto appunto è stato pubblicato sulla repository ufficiale dei plugin di QGIS e come vi dicevo è nato da una nostra iniziativa ma insomma è doveroso ricordare che è stata anche fatta una campagna di crowdfunding per aggiungere banalmente la possibilità di compilare il cdu per più particelle in contemporanea cdu infatti nasceva con la possibilità di compilare il cdu una particella per volta e questa campagna di crowdfunding si è conclusa con successo hanno partecipato molte persone molte delle quali tra l'altro sono qua con noi oggi penso giusto a Federico Amedeo Stefano ma c'era anche che ho visto prima direi Antonio insomma molte persone hanno partecipato quindi è grazie anche appunto a chi ha deciso di sostenere questo progetto se siamo arrivati alla configurazione alle funzionalità attuali del plug-in quindi il ringraziamento va ancora a chi ha sostenuto il progetto vi condivido lo schermo ora vedete voi adesso vedete la mia mail ok e partiamo a insomma a vedere un po' quali sono le funzionalità principali del plug-in cdu creator allora come vi dicevo è stato pubblicato è da sempre pubblicato sulla repository ufficiale dei plug-in di QGIS per cui lo potete installare molto facilmente dal gestore dei plug-in come avete visto prima ovviamente io ce l'ho già installato però digitando semplicemente cdu oppure anche catasto dovreste ritrovarvelo selezionarlo e appunto installarlo da qua avete anche un po' di metadati per cui potete tranquillamente raggiungere la repository del codice come vi dicevo è disponibile su GitHub quindi avete volendo accesso appunto al codice sorgente e una volta installato ve lo ritrovate sulla toolbar del vostro profilo di QGIS allora il plug-in cdu creator abbiamo cercato di renderlo uno strumento diciamo piuttosto semplice a livello di utilizzo necessita però di alcuni accorgimenti a livello di preparazione del dato cosa intendo per preparazione del dato banalmente cdu creator si aspetta di avere i layer caricati all'interno del progetto QGIS nominati in un certo modo e con un certo numero di colonne all'interno delle quali si aspetta di trovare appunto le informazioni necessarie per la compilazione del cdu se proviamo ad aprire cdu creator da un progetto vuoto vediamo già che ci segnala la prima il primo vincolo ovvero abbiamo bisogno per poter utilizzare cdu creator di un layer vettoriale poligonale con i mappali catastali con i terreni catastali che come ci dice il messaggio di errore in questo momento deve essere necessariamente nominato terreni underscore catastali vado quindi a caricarmi il mio layer di terreni catastali voilà in questo caso per insomma per la demo di questo webinar stiamo utilizzando i dati di un comune dell'entroterra dell'imperiese direi che appunto nostro cliente che ci ha gentilmente concesso di utilizzare i suoi dati per la dimostrazione di cdu visto che loro per primi utilizzano appunto cdu nella compilazione dei certificati di destinazione urbanistica se adesso proviamo ad andare a riaprire il plugin vedete che non ci viene più segnalato l'errore e si apre l'interfaccia grafica del plugin interfaccia grafica che forse da non mi ricordo adesso se nel webinar di quest'estate c'era ancora l'interfaccia vecchia o se c'era già l'interfaccia nuova comunque l'interfaccia per chi invece conosce il plugin un po' dalle sue origini è stata un po' rinnovata proprio per cercare di renderla il più insomma il più semplice possibile e è suddivisa fondamentalmente in tre tab l'ultima tab è forse non dico la più importante ma sicuramente quella da tenere più d'occhio in assoluto perché è quella in cui il plugin vi segnalerà qualsiasi tipo di errore di warning o insomma di problematica legata appunto alla compilazione del certificato vedete che in questo caso già aprendo il plugin ci segnala due due questioni la prima che è un semplice warning la seconda invece è un vero e proprio errore cosa significano queste due queste due segnalazioni ci dice di fatto che all'interno del nostro layer di terreni catastali non trova una colonna con nome o alias sezione e una colonna con nome o alias foglio questo perché perché all'interno del layer terreni catastali il plugin si aspetta di avere determinate colonne in particolare una colonna testuale in cui venga indicato ovviamente il numero di foglio e che deve essere necessariamente nominata a foglio una colonna in cui sempre testuale in cui deve essere indicato invece il nome del mappale il numero scusate del mappale e poi non obbligatoria una colonna invece che riguarda la sezione ovviamente la colonna della sezione non è obbligatoria perché appunto non tutti i comuni hanno il territorio diciamo suddiviso appunto in sezioni catastali questo è il motivo per cui se ci avete fatto caso il plugin ci indicava l'assenza della colonna sezione come una semplice informazione un warning invece ci segnalava la mancanza della colonna foglio come un errore questo proprio perché la colonna foglio così come la colonna mappale sono obbligatorie come risolviamo questo problema non è necessario modificare la tabella non è necessario ricreare le colonne o rinominarle che sono sempre operazioni un po' complicate soprattutto se stiamo magari anche lavorando banalmente su un database postgis possiamo semplicemente utilizzare gli alias quindi aprendo le proprietà del nostro layer terreni catastali possiamo semplicemente andare a definire l'alias per le nostre colonne quindi colonna sezione colonna foglio è assolutamente case insensitive per cui potete scriverlo maiuscolo minuscolo con l'iniziale maiuscola in camel case come volete l'importante appunto che siano nominate sezione foglio e mappale come vedete sulla colonna mappale non ci aveva segnalato nulla perché appunto la colonna già era nominata in quel modo ora che abbiamo aggiunto gli alias se andiamo a vedere il nostro log infatti non ci viene più segnalato nulla a questo punto diciamo per quanto riguarda gli accorgimenti da tenere in considerazione per il layer terreni catastali abbiamo già fondamentalmente fatto quanto necessario nel senso che per la colonna terreni scusate per il layer terreni catastali appunto non c'è bisogno di fare altre modifiche un po' diverso è il discorso legato invece ai layer quindi ai dati che riguardano i i piani urbanistici allora per prima cosa tutti i dati tutti i layer che devono in qualche modo essere tenuti in considerazione dal plugin nella fase di intersezione con le particelle per il quale vogliamo compilare il cdu devono essere inserite all'interno di un gruppo quindi creiamo il nostro gruppo e gli diamo un nome che può essere banalmente piano regolatore generale o piano urbanistico insomma quello che consiglio quando utilizziamo plugin cdu creator è quello sempre di utilizzare nomi sensati quindi cerchiamo sempre di dare sia ai gruppi che ai layer dello strumento urbanistico dei nomi diciamo veritieri ecco perché vedremo dopo quando andremo a stampare il nostro primo cdu che proprio questi nomi in qualche modo compariranno all'interno del cdu quindi va da sé che se il gruppo lo chiamo pippo alla fine mi ritroverò pippo scritto da qualche parte nel mio certificato cosa che immagino non sia insomma molto sensato ecco quindi creiamo il nostro gruppo e andiamo ad aggiungere le informazioni insomma scusate i layer relativi allo strumento urbanistico possiamo anche andare a modificare lo stile dei terreni catastali così vediamo al di sotto e andiamo appunto ad aggiungere un po' di layer all'interno del piano del gruppo piano regolatore generale posso volendo creare dei sottogruppi quindi anche questi magari dandogli dei nomi sensati e posso quindi organizzare i miei dati diciamo secondo le mie necessità fatto questo che insomma questa parte di gestione organizzazione dell'albero dei layer poi dipende moltissimo da caso a caso ovviamente dal tipo di dato che stiamo trattando al di là appunto dell'inserire i dati all'interno di un gruppo che invece quello è obbligatorio andiamo a vedere come gestire lato tabella attributi le informazioni che vogliamo invece far sì che CDU sia in grado di estrapolare allora per quanto riguarda i layer dello strumento urbanistico CDU fondamentalmente si aspetta di avere fondamentalmente quattro possibili colonne una colonna in cui deve può essere inserita diciamo la sigla della zona del vincolo insomma quindi una sigla che identifica l'area una colonna descrizione una colonna per un eventuale riferimento normativo quindi qualora appunto l'area in oggetto avesse appunto riferimenti normativi ad altra norma e poi invece una quarta colonna che può contenere invece l'articolo della normativa urbanistica queste quattro colonne a differenza del layer terreni catastali dove avevamo proprio l'obbligo di avere almeno la colonna foglio e almeno la colonna mappale per quanto riguarda i layer dello strumento urbanistico le colonne non sono assolutamente obbligatorie semplicemente se il plugin le trova all'interno della tabella attributi stamperà i valori estratti sul cdu altrimenti di fatto lascerà diciamo uno spazio vuoto ecco queste colonne pur non essendo obbligatorie se si vogliono utilizzare devono essere necessariamente nominate in un determinato modo anche in questo caso non c'è assolutamente bisogno di rinominare le colonne quindi di andare in qualche modo a modificare la struttura della tabella ma anche in questo caso possiamo semplicemente utilizzare gli alias impostandoli dalle proprietà del layer come devono essere nominate queste quattro colonne allora la colonna che contiene la sigla deve deve essere nominata nome la colonna della descrizione ovviamente descrizione e qua aspettate scusate che ora devo guardare la tabella perché ovviamente non mi ricordo più cosa c'era scritto dentro ok nome descrizione ok quindi scusatemi perché appunto essendo dati reali ci sono anche altre informazioni ovviamente quindi nome descrizione e la colonna che contiene il testo dell'articolo normativo deve essere nominata articolo anche in questo caso è case insensitive quindi anche qua scritte maiuscole minuscole non importa l'importante è che vengano nominate esattamente in questo modo ad esempio nel caso appunto che vi sto mostrando quindi appunto questo comune che utilizza cdu per i certificati non ha necessità di una colonna riferimento normativo per cui semplicemente la colonna non esiste non viene quindi trovata in qualche modo dal plugin e quindi semplicemente non verrà stampata alcuna informazione al riguardo questo discorso ovviamente va fatto per tutti i layer che andremo che fanno parte del nostro strumento urbanistico e che vanno inseriti all'interno del gruppo piano regolatore generale o piano urbanistico insomma come lo volete nominare attenzione perché è molto importante che tutti i layer che diciamo che rappresentano lo strumento urbanistico siano all'interno del gruppo questo perché il plugin cdu utilizzerà solo i layer all'interno del gruppo per appunto andare a creare di fatto l'intersezione con le particelle selezionate e quindi a compilare il cdu è anche altrettanto importante che il layer terrenica tastali non sia inserito all'interno del gruppo ma rimanga al di fuori questo anche per dire che ovviamente all'interno del vostro progetto QGIS voi potete caricare tutti i dati di cui avete bisogno non è necessario crearsi diciamo un progetto ad hoc per cdu creator potete crearvi il vostro progetto semplicemente ricordandosi di inserire tutti i dati utili alla compilazione del cdu all'interno di uno specifico gruppo fatto questo appunto andiamo a definire quindi layer per layer le nostre colonne andiamo ovviamente anche qui a rappresentare i nostri dati magari con delle simbologie un pochino più significative e a questo punto passo direttamente al progetto già composto correttamente possiamo arrivare di fatto ad ottenere un progetto di questo tipo quindi il nostro layer terreni catastali all'interno del quale avremo quindi la colonna sezione foglio e mappale ribadisco in questo caso la colonna sezione è presente perché il comune in questione è suddiviso in tre sezioni abbiamo poi il nostro gruppo piano urbanistico comunale all'interno del quale abbiamo inserito tutti i layer che costituiscono lo strumento urbanistico del comune e assegnandogli ovviamente anche uno stile un pochino più insomma più comprensibile più significativo e ogni ogni layer dello strumento urbanistico ha al suo interno all'interno della tabella le colonne appunto di cui vi parlavo prima quindi abbiamo di fatto una colonna descrizione abbiamo una colonna nome e abbiamo poi la colonna articolo che ora dov'è finita forse facciamo così da qualche parte dovrebbe esserci ora non la vedo comunque ci dovrebbe essere e forse la vediamo meglio dalle proprietà eccola qua articolo allora faccio una nota sulla colonna articolo vabbè intanto tutte le colonne come vedete anche per lo strumento urbanistico sono di tipo testuale quindi potete scriverci insomma tutte le informazioni di vostro interesse quello che consiglio di solito è quello di possibilmente non affidarsi a formati magari tipo lo shape file che potrebbe avere dei limiti sul numero di caratteri quindi magari di privilegiare formati dati tipo il geopackage piuttosto che benissimo un database post gis sqlite insomma special lights scusate quello che preferite proprio per evitare problemi di come si dice troncatura troncamento delle informazioni appunto per questo limite sul numero di caratteri massimo che si possono inserire per quanto riguarda la colonna articolo la cosa più interessante è che possiamo andare a inserire all'interno della colonna articolo direttamente il testo dell'articolo che verrà quindi stampato in cdu creator all'interno di questa colonna possiamo tra l'altro andare anche a inserire il testo sotto forma di testo html quindi possiamo banalmente utilizzare tutti i tag html per andare quindi anche a definire una certa impaginazione e uno certo stile al nostro testo dell'articolo tra l'altro per chi non è magari particolarmente avezzo a scrivere diciamo con la sintassi html la cosa interessante è che se voi avete la vostra normativa banalmente su un file doc potete salvarvi il file doc in formato html aprire il file in formato html con un qualsiasi editor di testo e copiare e incollare all'interno della tabella il testo già formattato in formato html che vi ritroverete poi appunto nella nella stampa del del cdu vi faccio vedere qua ad esempio vedete all'interno del della colonna ora io qua mi sono posizionata su una cella abbiamo proprio l'intero articolo scritto appunto con col formato html per cui abbiamo avuto la possibilità di mettere che so grassetti magari testo colorato evidenziazioni particolari e questo sarà esattamente quello che ci ritroveremo anche stampato nel nostro cdu questo perché cosa fa di fatto cdu proprio in soldoni diciamo così non fa altro che intersecare le particelle dei terreni catastali che selezioniamo appunto con tutti i layer che trova all'interno del gruppo che gli indichiamo come il gruppo dello strumento urbanistico interseca le geometrie e non fa altro che estrarre dalla trabella attributi tutte le informazioni che trova appunto in corrispondenza delle zone che sono state estratte quindi di fatto alle spalle diciamo il motore di cdu altro non è che un'intersezione fra layer vettoriali che insomma per chi ha un po' di dimestichezza col gis si tratta anche di un'operazione piuttosto piuttosto semplice ecco diciamo così la cosa interessante appunto è che vi permette poi già di comunque compilare un file in formato pdf o volendo anche in formato modificabile odt con tutte insomma già le diciture e tutte le informazioni estratte dalle tabelle direttamente su questo su questo file ora facendo diciamo tenendo conto di aver già ovviamente risolto eventuali problemi legati alla corretta georeferenziazione del nostro layer di terreni catastali e avendo già predisposto i nostri dati urbanistici per poter essere utilizzati con cdu creator andiamo a vedere il funzionamento vero e proprio del plugin allora come vi dicevo insomma c'è stato un certo restyling dell'interfaccia grafica anche legato proprio all'introduzione della funzionalità che è stata finanziata tramite crowdfunding ovvero la possibilità di compilare il cdu contemporaneamente per più particelle partiamo quindi dalla cosa principale selezionare le particelle come facciamo a selezionare le particelle allora possiamo naturalmente utilizzare gli strumenti di selezione di QGIS quindi o semplicemente la la selezione insomma manuale o un'eventuale selezione per espressione insomma qualsiasi strumento di QGIS che in qualche modo ci genera una selezione di geometrie può essere utilizzato appunto per selezionare le nostre particelle oppure possiamo naturalmente utilizzare l'interfaccia grafica del plugin l'unica accortezza se andiamo ad utilizzare gli strumenti della toolbar di selezione di QGIS quello che ci dobbiamo ovviamente ricordare per far sì che cdu creator in qualche modo tenga conto della selezione che abbiamo fatto è quello di aggiungere la no scusate di aggiornare la nostra selezione in modo tale che appunto le nostre particelle vengano elencate in questa area di testo e vengano quindi anche tenute poi in considerazione dal plugin ovviamente se andiamo a deselezionare tutto basterà ricliccare su aggiorna e la selezione verrà pulita anche per per il plugin altro strumento che possiamo utilizzare naturalmente sono i menu presenti sull'interfaccia grafica del plugin allora in questo caso il menu sezione scusatemi è attivo proprio perché il plugin trova all'interno del layer terrenica tastali una colonna sezione se non trovasse la colonna sezione questo menu sarebbe semplicemente disattivato in questo caso la trova per cui possiamo andare a selezionare una sezione nel momento in cui selezioniamo una sezione ovviamente il menu col numero di fogli viene filtrato sulla sezione appena selezionata quindi ci permetterà di selezionare solo i fogli appartenenti a quella specifica sezione idem il mappale se avete fatto caso finché non ho selezionato un foglio il menu mappale era disabilitato questo perché non è possibile appunto selezionare un mappale senza aver prima definito un foglio questo perché anche il menu mappale viene filtrato in funzione ovviamente del foglio appena selezionato quindi sarà sufficientemente scegliere il numero di mappale cliccare su aggiungi e immediatamente il plugin ci zoomerà l'area di mappa sulla particella appena selezionata e scriverà in quest'area di testo appunto i dettagli che identificano il terreno selezionato ovviamente possiamo anche fare una combo nel senso che posso anche decidere di selezionare più particelle utilizzando strumenti diversi quindi magari una particella la seleziono dall'interfaccia e le altre invece le seleziono tramite gli strumenti di QGIS a differenza di alcuni plugin che capita a volte di avere dei plugin che in qualche modo frizzano una volta che sono aperti frizzano la finestra invece principale di QGIS volutamente abbiamo fatto in modo che CDU creator invece mantenesse la finestra principale di QGIS attiva proprio per agevolare comunque l'interazione fra il plugin e i dati in questo caso basterà di nuovo ricliccare su aggiorna vedete che a quel punto vengo di nuovo zoomata su tutte le particelle selezionate e mi vengono aggiunte le caratteristiche nell'area di testo novità che presento direi per la prima volta è la possibilità di selezionare anche importando un file di testo txt o csv con l'elenco dei mappali delle particelle che voglio appunto selezionare questa funzionalità direi che l'abbiamo aggiunta intorno a dicembre quindi è indubbiamente una delle prime volte che la presento come vedete qua abbiamo un pulsante import a file gli unici diciamo due formati supportati sono appunto il txt o il csv in questo caso io ho un un semplice txt che provo ad aprire ok vediamo come vedete ci segnala alcuni errori questo perché perché anche il nostro txt barra csv con l'elenco di foglie mappali deve avere diciamo una certa configurazione lo vedete sì ecco fondamentalmente quello che il plugin si si aspetta è di avere le informazioni che identificano il mappale intanto diviso da diciamo divise da virgole quindi come come nel csv e ovviamente si aspetta di avere almeno sia il foglio che il mappale esattamente come per gli altri casi la sezione resta un dato facoltativo proprio perché non tutti i comuni sono suddivisi in sezione per cui di fatto la diciamo sintassi corretta per andare a compilare il nostro file sono di fatto queste uniche due righe qua proprio perché nella prima riga il problema è dato dal fatto che non è indicato sostanzialmente il foglio nella seconda riga il problema è che non è indicato il mappale nella terza riga anche qua abbiamo solo il mappale quindi cdu di fatto ignorerà questa informazione e idem l'ultima riga eventuali righe vuote saranno di default ignorate quindi questa appunto è una nuova una nuova funzionalità che ci hanno richiesto in tanti perché soprattutto magari se uno ha un numero insomma considerevole di mappali da selezionare indubbiamente una funzione di questo tipo aiuta notevolmente ora io vado a compilare correttamente il il mio file di testo 63 64 65 66 va bene possiamo anche semplicemente fare queste 4 lo salvo qua mi ripulisco un attimo la selezione e lo reimporto vedete che in questo caso avendo scritto correttamente il il file di testo non ci ha segnalato alcuna problematica quindi questi sono un po' i modi principali per per selezionare ovviamente la selezione può essere pulita direttamente dal plugin quindi se vado su pulisci selezione mi deseleziona tutto allo stesso modo posso rimuovere invece anche singole particelle dalla selezione banalmente potrei decidere che la particella 166 del foglio 3 non deve più essere inclusa nel mio cdu per cui la riseleziono tramite i menu e faccio rimuovi oppure esattamente come come per la selezione posso deselezionare utilizzando gli strumenti di QGIS e poi aggiornare questo diciamo sono i modi possibili con cui selezionare le nostre particelle una volta selezionate quello che gli devo andare a indicare è appunto il gruppo che contiene i layer dello strumento urbanistico altra cosa altro parametro che posso andare a definire io è diciamo l'algoritmo con cui creare appunto l'intersezione probabilmente sembrerà così una una scelta un po' strana ma abbiamo aggiunto questa possibilità proprio perché in più di una persona ci aveva segnalato che a volte soprattutto in presenza magari di errori topologici all'interno dei dati l'algoritmo di intersezione che avevamo scelto generava degli errori e quindi abbiamo dato appunto la possibilità di scegliere fra l'algoritmo ritaglia di QGIS che è decisamente che è un pochino più sensibile effettivamente a problemi legati a geometrie non valide errori topologici e via dicendo e volendo anche la possibilità di utilizzare invece l'algoritmo di ritaglia con maschera di GDAL che invece per testimonianze che ci hanno segnalato appunto gli utilizzatori del plugin sembra essere un pochino più tollerante nei confronti di eventuali errori topologici all'interno dei dati di default ovviamente vi propone l'algoritmo di QGIS ma ovviamente possiamo andare a selezionare non ci sono grosse differenze fra i due forse a livello di tempi di calcolo se scegliete l'algoritmo di GDAL potrebbe essere un pochettino più lento a insomma a compiere tutto tutto il processo poi molto dipende in realtà dal dal numero di particelle per il quale volete compilare il CDU passiamo alla seconda tab dell'interfaccio Roberta scusa un attimo torna un attimo all'input giustamente c'era una domanda quando vi vado a selezionare il gruppo piano urbanistico comunale se all'interno di quel gruppo ci sono vari sottogruppi lui comunque il plugin li interroga tutti lo stesso i layer sì allora il plugin diciamo come livello di gerarchizzazione arriva al sottogruppo quindi se inizia ad avere sottogruppi di sottogruppi è un po' più complicato ma se io all'interno appunto del piano urbanistico comunale del gruppo piano urbanistico comunale banalmente avessi un sottogruppo che ne so vincoli ora ci metto magari esattamente questa era la richiesta sì 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 un solo livello praticamente un solo livello sì 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 perché proprio a livello di codice poi non so se magari c'è stata qualche qualche cambiamento però diciamo ecco la lettura dei sottogruppi a livello di codice è un po' manuale nel senso che devi effettivamente entrare gruppo per gruppo per gruppo non c'è un qualcosa che ti legge tutto a cascata ecco per cui sì già che hai la selezione accesa Antonio diceva sarebbe utile poter salvare la selezione attiva dal plugin per poterla richiamare successivamente sì basta esportare le geometrie selezionate e salvarle magari in un altro layer cioè io credo che questo con gli strumenti normali di QGIS lo si può fare poi io richiamo la selezione lancio un seleziona per posizione cioè occhio a non a non inserire troppe cose nel plugin che poi riusciamo invece a gestire con gli strumenti ordinari no ecco esatto esatto cioè diciamo che cioè non vogliamo che diventi comunque uno strumento troppo complesso ecco cioè proprio perché diciamo che lo scopo ovviamente è quello che agevoli chiunque però quando noi abbiamo pensato a CDU forse soprattutto in mente avevamo no magari quelle amministrazioni più piccole che magari al loro interno non hanno neanche proprio nel personale nel tempo insomma di imparare anche software troppo complessi quindi ci faceva piacere che rimanesse uno strumento veramente un po' alla portata di tutti anche di chi magari non è un esperto utilizzatore GIS per cui metterci dentro troppe opzioni troppe possibilità troppe funzionalità abbiamo sempre un po' paura che poi rischi un po' di creare l'effetto inverso ecco cioè quello di renderlo talmente complicato che poi diventa poco usabile ecco insomma mentre invece c'è un'altra domanda da Aldo che dice sarebbe utile per la verifica di coerenza tra previsioni urbanistiche e piani straordinate direi di no direi che è pericoloso limitare la coerenza a una sovrapposizione spaziale e comunque cioè il plugin ha bisogno in ingresso da un lato del livello terreni catastali e dall'altro appunto di un gruppo di livelli urbanistici sicuramente si possono appunto allungare le informazioni del cdu che normalmente sono prese dallo strumento urbanistico comunale si possono allungare con altri piani e quindi si può per esempio mettere un livello con rete natura 2000 purché si rispetti la nomenclatura e gli attributi che aveva fatto vedere Roberta certo sì sì quello assolutamente ecco io faccio sempre l'esempio col piano così pulito però so che ci sono amministrazioni che magari nel certificato mettono anche riferimenti che so a piani di bacino ora non so io scusate non sono un urbanista per cui probabilmente sto dicendo delle bestialità però ne abbiamo urbanisti però effettivamente ci sono previsioni paesistici piani così erano quelli di coordinamento paesistico ora sono ptcp queste cose qua per cui sì sì semplicemente possono essere tutti organizzati appunto magari in sottogruppi e l'importante è rispettare appunto la nomenclatura delle colonne ecco sì e comunque io sottolineo da urbanista attenzione che spesso la relazione con i piani sovraordinati non è solo una relazione spaziale modellabile meccanicamente oggettivamente per cui è così la personalizzazione del testo la vediamo dopo presumo vai pure avanti sì sì eccoci qua allora appunto ci spostiamo sulla tab dell'output che abbiamo chiamato output perché è dove andiamo un po' a definire ciò che vogliamo che in qualche modo al netto di tutto quello che verrà estratto dai dati spaziali tutte le altre informazioni che vogliamo che compaiano in qualche modo all'interno del nostro certificato quindi abbiamo una sezione vedete qua dedicata ai dati relativi alla richiesta quindi la possibilità di inserire un numero di protocollo di inserire una data e ovviamente il richiedente questi dati legati alla richiesta vedremo poi facciamo le prove non sono assolutamente obbligatori nel senso che se io non inserisco un numero di protocollo una data e un richiedente il mio certificato sarà ugualmente compilato semplicemente in corrispondenza di queste tre informazioni verrà messa diciamo la classica riga orizzontale che implica poi una compilazione manuale del modulo nella sezione output invece possiamo ovviamente andare intanto a definire la cartella in cui verranno salvati i nostri cdu il nome del file anche in questo caso mentre la cartella dove vogliamo salvare è obbligatoria il nome del file anche in questo caso non è un parametro obbligatorio proprio perché se non andiamo a specificare un nome cdu creator darà un nome di default tendenzialmente è una roba tipo cdu data e ora di realizzazione del file possiamo scegliere appunto come vi dicevo prima se stampare anche una versione modificabile di default infatti cdu genera un pdf ceccando la casella appunto per la stampa anche in formato modificabile vi salverà sia il pdf che lo stesso file in formato dt possiamo scegliere se stampare la mappa all'interno del nostro certificato quindi di fatto in fondo al certificato ci sarà appunto uno stralcio cartografico con inquadrate ovviamente le particelle selezionate possiamo dare un titolo che comparirà ovviamente nel certificato possiamo specificare il nome del comune per dire Genova possiamo selezionare un logo quindi fondamentalmente un'immagine jpeg o png che in qualche modo rappresenta il logo appunto del del comune e possiamo andare a selezionare un file di intestazione fondamentalmente deve essere un file txt quindi un semplice file di testo dove possiamo andare a inserire eventuali riferimenti normativi ora qua io ho messo ovviamente un testo random però per la poca esperienza che ho io di certificati di destinazione urbanistica di solito c'è una prima parte in cui visto la normativa del bla 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 visto quello visto quell'altro certificato quello certificato quell'altro ecco queste sono tutte voci diciamo che possono essere semplicemente scritte all'interno di questo file e poi richiamato appunto dal plug-in appunto come come intestazione ultima cosa possiamo scegliere se stampare o meno l'area espressa in metri quadri o in percentuale delle insomma delle porzioni di strumento urbanistico intersecate dalle nostre particelle una volta che abbiamo definito il tutto sarà sufficiente cliccare su ok e partirà l'intero processo ci dice fondamentalmente tutto quello che sta facendo quello che dico spesso io è che alla fine è venuto fuori un plug-in che praticamente pecca forse un po' di eccessiva verbosità nel senso che abbiamo veramente cercato di insomma rendere partecipe l'utente di più cose possibili per cui appunto vi dice particella per particella quello che sta facendo vi segnala appunto in questo caso ad esempio ci dice che non trova la famosa colonna riferimento legislativo ma è un semplice warning per cui lui va avanti alla fine ci dice dove ha salvato i nostri file e terminato il processo ci dice che il processo è terminato anche questa è stata una scelta voluta nel senso che ha magari un po' di dimestichezza con QGIS ci sono tanti plug-in che una volta in cui cliccate su ok di fatto chiudono l'interfaccia grafica in questo caso abbiamo progettato il plug-in affinché l'interfaccia grafica rimanesse aperta anche terminato il processo proprio perché io volendo potrei in questo modo andare a selezionare altri mappali aggiungerne rimuoverne eccetera e rilanciare il mio processo senza dover diciamo ridefinire tutte le cose in realtà la ridefinizione di tutti i parametri non è sempre vera cosa vuol dire vuol dire che se io chiudo adesso l'interfaccia del mio plug-in e la riapro allora intanto vi segnalo che se se la riaprite e avete già delle particelle selezionate lui già le riconosce e ve le indica qua molti parametri vedete che restano memorizzati quindi banalmente la cartella dove volete salvare è uno di quei parametri che viene memorizzato quindi se voi avete una cartella cdu non dovete tutte le volte andarla a riselezionare idem per scelte come la stampa del formato dt o della mappa e idem anche per quanto riguarda ad esempio il file del logo il file di intestazione il nome del comune il titolo e via dicendo quindi anche questo agevola abbastanza ecco insomma tutte le volte visto che i parametri da inserire sono tanti abbiamo appunto pensato alcuni di mantenerli in qualche modo memorizzarli così che fondamentalmente il lavoro grosso debba essere fatto una volta sola e poi possa essere riutilizzato ora dove ho salvato i cdu che abbiamo appena fatto in documenti andiamo a vederli al volo nel delirio della mia cartella documenti eccolo qua vedete che in questo caso io non avevo messo un nome per il file quindi lui gli ha dato una denominazione di default che poi di fatto è data e ora di compilazione e qua abbiamo il nostro cdu allora questo altro non è che l'immagine png barra jpeg che abbiamo caricato come logo questo è il tito ti fermo un attimo abbiamo Carmelo che ha alzato la mano non so cosa voleva chiedere pronto mi sentite si vai senta una domanda volevo sapere se era possibile selezionare un'area svincolandosi dalla particella tipo tracciare un poligono a video e capire quale particella interessa interseca e quale aree e vincoli interseca allora diciamo che si può fare un po' ingannando il plugin ora adesso finisco qua e vi faccio vedere un caso simile diciamo che assolutamente si può fare ecco grazie niente allora vi dicevo giusto per capire tutte le cose che abbiamo definito prima di fatto dove dove vanno un po' a finire allora qua abbiamo il logo questo altro non è che il titolo questo è il nome del nostro comune ecco qua qui se avessimo definito un numero di protocollo e una data ce li saremmo ovviamente trovati scritti qua e qua idem se avessimo definito un nome per il richiedente l'avremmo l'avremmo trovato qua al posto di questa riga e idem per di nuovo data e numero di protocollo questo è il testo con gli eventuali richiami e riferimenti normativi che inseriamo tramite il file di testo come intestazione e poi qua inizia tutta la parte invece di certificato quindi particella per particella ci dice che appunto la particella identificata da sezione foglio e mappale intersega le seguenti mappe del piano urbanistico comunale questo è esattamente il nome del gruppo quindi per questo vi dicevo cerchiamo di dargli nomi abbastanza sensati e questo altro non è che il nome del layer quindi servizi progetto se torniamo qua infatti avevamo vedete all'interno del sottogruppo vincoli un layer servizi progetto che interseca la particella 165 quindi in questo caso in presenza appunto di eventuali sottogruppi viene stampato anche il nome del sottogruppo poi abbiamo i contenuti che vengono trovati all'interno delle colonne quindi questo altro non è che la nostra colonna nome questa è la colonna appunto descrizione riferimento normativo non c'è quindi ve lo ritrovate così col trattino e poi articolo abbiamo esattamente la stampa dell'articolo questo è proprio l'articolo che vi facevo vedere prima scritto diciamo in formato html con tutta la normativa e poi ovviamente abbiamo la seconda particella quindi di nuovo viene ripetuto il terreno oggetto bla 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 identificato da sezione foglio mappale interseca le seguenti mappe del piano e di nuovo le varie informazioni in questo caso il layer zone non era inserito in un sottogruppo per cui qua abbiamo stampato solo il nome del layer e poi queste sono le informazioni sempre delle quattro colonne in questo caso l'articolo di riferimento è insomma cortissimo e quindi tutto qua la mappa ovviamente qua vabbè è una questione di impaginazione e quindi abbiamo la nostra mappa appunto centrata su le due particelle selezionate poi vabbè qua semplicemente data ora di creazione eccetera eccetera e poi la possibilità di aggiungere firme bolli e via dicendo questo per quanto riguarda il pdf ovviamente il il file odt è una copia esatta cioè nulla nulla di più eccolo qua tutte le insomma esattamente le stesse cose che vedevamo prima le ritroviamo anche nel nel file odt ecco qua quindi come vedete l'utilizzo diciamo soprattutto una volta che abbiamo definito i nostri dati e abbiamo in qualche modo insomma preparato il nostro progetto di per sé poi l'utilizzo del plug-in è veramente molto semplice per rispondere alla domanda di Carmelo un un esempio che vi anticipava anche un pochino prima Amedeo è quello diciamo di partire non da un layer di terreni catastali importato col CXF in o insomma in qualche modo convertito in un formato insomma supportato da QGIS ma magari partire banalmente dal classico stralcio della visura catastale che viene presentata in fase di richiesta del CDU perché prima anche alla domanda di Carmelo dicevo quello che possiamo fare è andare a ingannare in qualche modo il plug-in perché il plug-in nonostante diciamo ogni scarrafone sia bello a mamma soia però non è che sia poi così intelligente nel senso che a lui di fatto che quelli siano dati catastali o siano dati assolutamente random non gli interessa e soprattutto non è in grado di riconoscerli perché appunto non è poi così furbo quindi di fatto appunto per rispondere alla domanda quello che a lui serve è un layer poligonale che si chiama terreni catastali che poi quel layer effettivamente rappresenti dei terreni catastali o rappresenti un mosaico di poligoni assolutamente random non non gli interessa più di tanto ecco per cui nel caso appunto vi dicevo dell'ipotesi di partire dal classico stralcio della visura catastale quello che è ovviamente possibile fare è andarsi ora in questo caso io mi creo un semplicissimo layer temporaneo che nomino appunto terreni catastali tipo di geometria ovviamente poligono e vado a dargli le tre colonne che lui di fatto si aspetta o addirittura due ecco in questo caso vabbè gliele e non faccio altro ad esempio ora qua io ho riferito alla veloce appunto uno stralcio cartografico preso da una visura del comune l'ho riferito direi su base ctr credo sì perché vedo che qua c'ho il vfs della ctr e posso non fare altro che andarmi a disegnare il mio poligono e quindi poi inserire ora non mi ricordo cos'è direi sempre dovremmo essere sempre in sezione 3 sezione a foglio 3 mappale 4 6 5 ok chiudo salvo a questo punto mi apro cdu creator e vedete che lui come layer di terreni catastali in realtà sta prendendo la partice di fatto il layer temporaneo in cui ho appena disegnato il poligono infatti mi presenta solo questa unica particella che trova la aggiungo vado sempre a selezionare il gruppo e poi posso tranquillamente lanciare il mio processo ed ecco qua che ho tenuto il cdu o per un'area assolutamente diciamo casuale per così dire che nulla c'entra con il con il catasto nel senso che voglio dire io ora ho ricalcato una particella ma potrei anche farlo tranquillamente su un poligono di questo tipo senza problemi e allo stesso tempo questo potrebbe essere diciamo un modo alternativo per riuscire in qualche modo a utilizzare il plugin magari anche in assenza appunto di dati catastali convertiti georiferiti e via dicendo ecco quindi in questo senso quando dico possiamo un po' in qualche modo ingannare il plugin assolutamente sì alla fine appunto lui non è in grado di riconoscere il dato in quanto tale ma semplicemente cerca determinate informazioni e se le trova appunto cioè banalmente uno si potremmo si potrebbe utilizzare come terreni catastali anche che ne so un layer che mi rappresenta un uso del suolo piuttosto che non lo so un altro tipo di 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 normativa ecco quindi no no quello assolutamente basta appunto rispettare diciamo i vincoli del se così li vogliamo chiamare i vincoli del del dato ecco tutto lì ascolta un'altra domanda che a cui ho risposto ma non è detto che la risposta sia giusta e si possono utilizzare dei join all'interno dei dei layer praticamente quindi prendere gli attributi da un vettore in join sì direi di sì ora io personalmente non l'ho mai testato ma ma sì mi sembra che appunto qualcuno ci avesse ci avesse detto che l'aveva testato e che funzionava che funzionava correttamente sì direi che dovrebbe essere Giuliano tra l'altro che ci ha ci ha provato sì sì e assolutamente ecco io ovviamente vi c'è un esiste un manuale di cdu creator spero anche scritto in modo abbastanza chiaro ma come sempre feedback e via dicendo sono più che i benvenuti lo raggiungete volendo direttamente dall'interfaccia del plugin se cliccate sul pulsante guida vi aspettate che è finita sull'altro schermo eccolo qua vi si apre direttamente il il manuale con insomma tutte le tutte le cose che vi ho vi ho appena detto le trovate spero scritte spiegate un pochino meglio nel nel manuale avete abbiamo messo anche un po' di gif mini video tutorial e via dicendo e quindi insomma avete tutto scritto e spiegato anche qua e direi basta per noi appunto siamo sempre alla ricerca comunque di feedback considerazioni anche suggerimenti anche proposte migliorative che purtroppo dico già a volte cerchiamo di accogliere se se ovviamente sono proposte che a livello implementativo diciamo costano poco in termini soprattutto di di tempo spesso se ci vengono fatte proposte un pochino più impegnative purtroppo quello essendo appunto un progetto open a cui di fatto contribuiamo così per per amor di open source a volte diciamo non abbiamo proprio nei tempi a disposizione né le risorse per poter accogliere tutto però appunto se se ci sono feedback molto molto volentieri perché appunto per noi sono sempre spunti e poi magari capita l'occasione non immediata ma un po' più in là invece di poterli in qualche modo implementare e per queste segnalazioni volendo si può usare anche la proprio la repository github scrivete una nuova issue e insomma almeno noi le teniamo le teniamo in qualche modo e non ce le perdiamo i contatti di github li trovano già dall'interfaccia del plugin i contatti di github direi che ce li avete dai metadati del plugin comunque se no insomma ci 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 trovate e abbiamo anche due gruppi no un canale telegram e un gruppo telegram delicato interamente dedicati a cdu creator ora non mi ricordo mai qual è in telegram quello dove possono scrivere solo diciamo gli amministratori che è il canale mi suggeriscono qua dalla regia quindi abbiamo un canale a cui ci si può iscrivere dove noi di fatto poi vi segnaliamo nuove versioni che escono novità varie ed eventuali e invece abbiamo un gruppo telegram anche lì dove è libero iscriversi e dove anche gli utenti possono farci domande segnalarci problemi o questioni insomma quindi ci trovate lì e se no comunque appunto dai metadatti trovate anche i nostri direi riferimenti sì per cui appunto le proposte di miglioramento vanno fatte lì oppure la cosa migliore appunto uno dal repository del codice praticamente chiaramente può fare un fork fare già dei test e arrivare anche con qualcosa voi non vi lamentate se non arriva con qualcosa di già pronto no 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 soprattutto io non mi lamento no alle volte il codice può essere anche molto semplice in python e può essere anche così un esercizio che uno dice a me piacerebbe poter inserire un secondo livello di sottogruppi e quindi oppure inserire delle parole chiave nei gruppi ecco cioè dal repository che mi pare sia su github il vostro certo sì 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 assolutamente è possibile fare un fork su un proprio repository e quindi testare poi questo se ne parla in lista QG sono i gruppi telegram e poi testare una propria versione del plugin modificando anche piccole cose o addirittura lo si può modificare anche in locale perché i file di python si possono modificare in locale assolutamente e questo appunto cioè uno non è geloso del proprio software quando lo pubblica no no per carità anzi cioè nel senso la proposta può già arrivare corredata anche delle righe interessate sì 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 poi io per carità di formazione non sono neanche un informatico per cui cioè se c'è invece qualcuno che che sa anche meglio di me per carità cioè nel senso io sono siamo molto aperti sì giustamente fa notare Carmelo in chat teoricamente lo si può usare anche al contrario sì se io ho un gruppo strumento urbanistico però poi devo stare a rinominare le cose rinominare le colonne no quindi cioè io prendo un'area e nella descrizione ci metto ci metto quali parti e ottengo quali particelle sono interessate all'area sì funziona io starei un po' attento a questi utilizzi of labor che poi siccome le colonne hanno delle etichette ben precise poi si rischia di fare un pochino di confusione è meglio magari utilizzare per queste cose cercare di farsi un proprio script all'interno di processing perché di fatto cioè Roberta l'ha detto l'operazione spaziale è assolutamente semplice è un'operazione o di ritaglio tramite le librerie digital eccetera quello che conta è il lavoro che si fa prima per cui per esempio il comune di Spinea che ha detto di aver già ridisegnato le geometrie dello strumento urbanistico su base catastale probabilmente ha già una buona corrispondenza per l'utilizzo del CDU gli altri hanno probabilmente parecchio lavoro da fare come dicevamo e anche un po' di manutenzione per magari riproiettare le cose oppure tra le varie cose per esempio uno può anche decidere di utilizzare un livello con le geometrie catastali un pochino ridotte in maniera che fa un buffer negativo di 4-5 metri e per cui perde la topologia però nel momento in cui va a utilizzare CDU Creator magari si mette il riparo da quei piccoli sfridi per cui uno si trova nel CDU l'indicazione strada anche se è chiaro che la possibilità non c'è ci potete mettere del vostro nell'utilizzo esatto quello che diciamo sempre noi è che il vantaggio di uno strumento di questo tipo appunto integrato in un software come QGIS è che voglio dire comunque uno ha veramente la possibilità di utilizzarlo a monte di tutta una serie di operazioni che vengono prima cioè banalmente quello che un po' un tempo si faceva contro il vetro della finestra il foglio lucido in qualche modo io volendomelo potrei fare anche abbastanza tranquillamente in QGIS nel senso che se io ho il mio layer di terreni catastali e ho bisogno di aggiustarmi per qualche ragione la posizione di una particella nulla mi vieta di attivare l'editing sulla mia particella e insomma fare tutti gli spostamenti poi capisco che magari per i puristi potrebbe essere una bestialità però mi rendo conto che in questi casi invece potrebbe essere anche utile magari fare dei discorsi di questo tipo ecco no io credo appunto come diceva nella mia slide io mi concentrerei sul fatto che il plugin consente di effettuare un'operazione sufficientemente chiara standardizzata ripetibile come dicevi tu probabilmente l'utilizzo migliore è proprio quello magari di piccoli comuni penso anche a situazioni in cui il tecnico è presente due giorni alla settimana dove in teoria il primo giro di lanciare il plugin può essere fatto anche da una persona non necessariamente esperta e poi comunque io preparo una cosa che poi quando mi arriva il tecnico giovedì verifica valuta corregge e firma cioè oggettivamente poi anche quel log che tu dicevi che è verboso ma assolutamente per gli appassionati di burocrazia digitale come me va benissimo perché io rischierei davvero di salvarmi tutti i log per ciascun cdu che emetto li firmo digitalmente in maniera anzi potresti aggiungere anche il nome utente di chi sta utilizzando il computer così poi non ci sono dubbi su chi ha fatto l'operazione perché la data e l'ora sono già presenti nel nome del file per cui e anche sì una cosa che può sembrare strana però il fatto di generare sia il pdf che l'odt anche lì mi può dare anche traccia mi aiuta a tenere traccia se io ho preso il pdf così come usciva dal plugin e l'ho inviato oppure se alla fine sul file che ho protocollato in uscita ho fatto delle modifiche delle correzioni a partire dall'odt cioè per cui no no su questo aspetto trovo trovo un plus una feature effettivamente ok ci sono io avrei diciamo la mia panoramica l'avrei conclusa se ci sono però domande o che sono ovviamente a disposizione se no rilascio la parola da Medeo sì allora guarda c'è un'esperienza di Michele Galassi che invito eventualmente a dire a voce a ripetere a ripetere a voce se vuole perché mi diceva che lui fa un po' diversamente no mi sentite sì prego buon pomeriggio a tutti come ho detto nella chat la mia strumentazione urbanistica sono dell'Unione aerobicone mare provincia di Forlicesena secondo la legge 20 del 2000 e la strumentazione urbanistica è disegnata su Ortofote CTR sì io avevo un applicativo comunque catastale prima con i vecchi periggi che erano disegnati su base appunto catastale con la base sotto il catasto è identica a quelle particelle la sovrapposizione quindi col cd automatico poteva essere fatto tramite il plug-in della nostra società intermediaria tra le agenzie dell'entrata e l'ente locale avendo poi provato nella strumentazione urbanistica quindi PSC nel 2018 e come dicevo tutta la registrazione urbanistica è disegnata su base CTR e Ortofoto da legge 20 quindi io per esempio quando ho delle particelle che sono a filo per esempio di un ambito consolidato e delle rurali di pochi metri quadri nel certificato compilandolo a mano io faccio una valutazione manuale quindi della destinazione urbanistica la mia responsabile infatti mi diceva proviamo a fare il cd automatico ma noi avendo questa questa nostra sovrapposizione corretta la vedo molto difficile utilizzare questo applicativo per esempio con QGIS no no è la situazione comune a tutti perché anche in Veneto ovviamente è su base CTR per cui fai benissimo a farlo è ovvio che può essere cioè può essere o non essere d'aiuto come diceva Roberta in genere appunto in Veneto viene utilizzato perché su un comune relativamente piccolo con pochi ambiti di sviluppo fabbricabili praticamente quindi immagino più o meno i comuneri della provincia di Vicenza che il tuo comune scusa che dimensione ha a livello di abitanti più o meno è l'unione di tre comuni quindi sono Savignano di 7000 abitanti San Mauro Pasco di 10.000 e Gatteo circa 9.000 ah sì bellissimo ci sono stato a San Mauro Pasco vero che ci penso con Abaco e sì allora sicuramente in questo caso si tratterebbe di generare il file ODT e di eliminare tutte le particelle che non c'entrano che dovresti comunque vederle ad occhio perché scusa Roberta non mi ricordo se sul file ODT escono anche le percentuali o dei metri quadri di sovrapposizione se lo selezioni dall'interfaccia sì ok quindi appunto ovviamente può essere un supporto ma come dicevamo prima assolutamente non sostituisce anche quello che è l'occhio del tecnico infatti alle volte c'è una sovrapposizione di due metri quadri che è uno sfrido alle volte c'è una sovrapposizione di un metro quadro che invece deve essere mantenuta per cui come adesso stavo guardando scusi se la interrompo prego che stavo guardando adesso che ero in smart working con il compito dell'ufficio vedevo per esempio che nella nella destinazione urbanistica prende un pezzo di strada che effettivamente non è esistente quindi anche dopo lì è una valutazione da fare caso per caso perché molte volte c'è anche un errore cartografico nello strumento urbanistico che con l'osservazione non è stato possibile eliminarlo sì 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 assolutamente cioè ci sono vari può essere appunto errori di digitazione ma delle volte la maggior parte delle volte è una questione di sovrapposizione poi dipende sempre dall'utilizzo perché ripeto io ho avuto modo di utilizzarlo nell'ambito di una stima dell'imponibile ai fini ICI e IMU e questa essendo un'imposta in autodichiarazione in realtà il calcolo che posso fare io come area fabbricabile è è sempre come dire una proposta che poi la proprietà mi conferma oppure mi contesta in base ad altri elementi servito da elettrodotto che ne so oppure cioè franabile per cui uno può assolutamente dirmi e poi magari chi si occupa della parte tributaria nella parte più propriamente urbanistica di creazione di diritti edificatori infatti c'è anche proprio una domanda prima oggettivamente la cosa è più delicata e bisogna andare più in profondità e il più delle volte comunque con lo strumento GIS senza far uscire un topografo non è che ci si può spingere proprio fino al centimetro o al metro quadro per cui qua sono anche scelte diciamo da parte da parte dell'ente perché poi appunto come diceva Roberta ci sono comuni che ti chiedono le indicazioni in metri quadri in percentuale e comuni che non mettono nulla e che ti dicono che infatti che posso aggiungere per esempio appunto che la essendo c'è un po' di errori tra la sovrapposizione appunto catastale e questo momento urbanistico noi abbiamo scelto cioè che per esempio quando c'è la particella che è divisa da due ambiti non mettiamo mai metri quadri effettivi mettiamo solo parte parte giusto per dare l'idea perché effettivamente con il giro non è che puoi arrivare alla definizione dei metri quadri in un ambito e di metri quadri nell'altro esatto questo mi dà l'occasione di rispondere a una prima domanda in chat che c'era che chiedeva appunto ok ma alla fine per calcolare diciamo la superficie i diritti edificatori in superficie la superficie nominale catastale nelle visure oppure quella calcolata in prege oppure quella misurata sul catastale già referenziato adesso non mi ricordo chi mi ha posto la domanda però allora io qui direi che se parliamo di un indice fondiario e quindi di poter dire all'impresario quanti soldi può investire assolutamente spegnere il GIS e chiamare il topografo perché cioè non andiamo abbiamo dietro una base CTR e poi non lo so dipende un po' dall'ufficio legale del vostro comune dall'assicurazione che avete ma assolutamente andare a dire i diritti edificatori no per cui dire ok lei ha mille metri quadri edificabili e con un indice di 1 e 2 può edificare esattamente 1200 metri cubi io non mi sognerei mai di farlo non lavoro nei comuni ma presumo che tutti i tecnici comunali sottoscrivano no se parliamo di IMU ICI o valori esproprio eccetera io ho sempre utilizzato quindi comunque di una valutazione preliminare che poi viene confermata anche nel procedimento amministrativo mi spiego cioè perché c'è da fare un'analisi anche proprio di tutto il flusso burocratico che c'è di come funziona il procedimento e di che strumenti ha il responsabile di procedimento per appurare determinate cose però se parliamo di ICI e IMU che come dicevo sono in autodichiarazione se parliamo di valori esproprio che in qualche modo devono essere accettati dalla controparte io mi son trovato bene andando a moltiplicare la superficie nominale che sta in catasto con la percentuale calcolata dal GIS se posso fidarmi appunto del lavoro preparatorio di sovrapposizione che ho visto che validità abbia appunto questo livello di catastale già ho referenziato e modificato come vi ho fatto vedere con Vector Bender dipende ovviamente dall'operatore da quanto si sente sicuro secondo me validità in giudizio nulla perché nel momento in cui lo riproiettiamo come dicevamo non è più non è più il catastale come tutte le cose il tecnico che fa che già riferisce come così come quando si già riferiscono piani vecchi per esempio che esistevano solo su cartaceo il tecnico se ne assume la responsabilità alla scala nominale che dichiara quindi abbiamo sempre una certa tolleranza per cui se lavoriamo al 5000 tutto sommato una tolleranza come dicevo di 5 metri lineari io credo che ce la dobbiamo mettere insomma adesso io non mi ricordo mai la formula però sostanzialmente è l'equivalente di mezzo millimetro sulla stampa sulla stampa effettiva se non erro no per cui questo e sì per per stabilire la proprietà no mi chiedevano cioè già riferire il catastale per poi poter assegnare la proprietà la validità in giudizio è nulla quindi secondo me come si fa con le pianificazioni con le riconfinazioni ci vuole molta pazienza la capacità di interagire con le controparti è un bravo è un bravo topografo quando serve cioè oggettivamente non è un mestiere che scompare il topografo assolutamente no qui ne avevamo vari e credo possono confermare rispondo a un'altra domanda poi vi lascio spazio appunto sì invece come diceva Antonio secondo me il vantaggio di questo aspetto è che se il progetto QGIS viene predisposto una volta per tutte e mantenuto con tutti i crismi come dicevamo in ambiti come può essere proprio quello di prima no se cambia l'operatore il CDU viene redatto con esattamente la stessa la stessa cosa per cui se viene richiesto un CDU per la stessa particella a distanza di un anno o due anni e lo strumento urbanistico non è cambiato o comunque è assolutamente coerente io credo proprio che in questo caso otteniamo lo stesso risultato e non è poco a mio giudizio certo sì sì questo è indubbiamente uno dei vantaggi nel senso che cioè comunque si basa su una concretezza di informazioni e e quindi sì sì cioè che il click sul tasto ok lo faccia io lo faccia Medeo lo faccia il mio collega se abbiamo selezionato la stessa particella il risultato è esattamente lo stesso identico aspetta che forse non ho compreso bene la domanda di Antonio per cui se vuoi intervenire in audio Antonio volentieri mi sentite buonasera sì mi riferivo al fatto di poter escludere diciamo delle aree perché è sempre diciamo un metodo soggettivo quindi non sotto controllo era solo questa l'osservazione non mi riferivo al plug-in quindi escludendo delle aree successivamente se l'operatore non è lo stesso o non c'è uno storico quindi di tracciabilità dei precedenti certificati rilasciati si va in contraddittorio certo cioè sono due certificati che possono contrastarsi tra di loro questo era l'osservazione grazie per tutto grazie grazie Antonio sì a parte che è sicuramente antipatico però che due tecnici diversi firmino cose leggermente dissonanti non credo che sia una tragedia gestibile però è sicuramente antipatico ma in questo caso però io credo che nell'esempio appunto di Michele oggettivamente ci sono dei criteri all'interno dello strumento urbanistico che aiutano diciamo a capire per cui è la conoscenza dello strumento urbanistico che permette di escludere determinate aree perché sono il risultato di un errore cartografico o invece di includerne altre perché sappiamo che molto probabilmente la situazione è corrispondente alla realtà mentre invece c'era anche un attimo scusate una piccola domanda mi è arrivata per messaggio diretto non conosco bene non c'è il nome del proponente però appunto diceva che questa preparazione che abbiamo detto che è necessaria l'avevo detto anche io nelle mie slide questa preparazione dello strumento urbanistico gestita con strumenti GIS se può avere una sua ufficialità con un passaggio in consiglio comunale sì no ni sono un po' incerto su questo so per certo che è stato fatto in alcuni comuni cioè l'approvazione in forma tecnica soprattutto quelli che hanno ridisegnato il PRG su Catastale non so se Spine ha fatto un passaggio di questo tipo perché ovviamente ci vuole che abbia una certa ufficialità caso mai appunto quello che mi diceva il tecnico comune di Spine se ancora con noi può pure accendersi e intervenire però io sono un po' dubbioso ecco sul passaggio in consiglio di una cosa che si vede solo nel GIS è più bisognerebbe trovare altre strade però qui magari chiediamo un avvocato io per quanto appassionato di ecco grazie Fabio quindi per quanto appassionato di burocrazia e in particolare burocrazia digitale non credo di rivoluzione sì di luogo deputato sarebbe meglio probabilmente utilizzare la stessa la stessa approvazione quindi approvare contestualmente le due forme che inevitabilmente che inevitabilmente differiranno un pochino perché è esperienza anche vostra che utilizzando anche solo due software GIS diversi le misure alcune sovrapposizioni alcuni elementi differiscono insomma scusa Federico mi dici a che ora dobbiamo finire perché c'erano anche le ultime due cose da fare un saluto intanto a chi deve a chi deve andare via prima non c'è più neanche Federico ok ok ah quindi abbiamo ancora un po' di tempo insomma praticamente ok grazie benissimo sì sì giustamente sì assolutamente sì giustamente diceva Fedele che chiedeva del passaggio in consiglio per l'approvazione in forma tecnica del piano in formato digitale sì sicuramente dovrebbe essere pubblicato in formato digitale sottoposto alle osservazioni dei cittadini è una strada interessante per i comuni che hanno un web GIS effettivamente perché per cui si potrebbe rendere in qualche modo ufficiale anche lo strumento lo strumento del web GIS però direi che la questione è un po' da lasciare agli avvocati intervenite pure sia in chat che dal vivo io intanto mi riprendo la condivisione di schermo perché prima giustamente era stato chiesto appunto la consultazione la visura catastale per le proprietà personali che specialmente appunto nel caso dei tecnici comunali cioè se un cittadino deve venire da voi e chiedere non deve venire da voi deve collegarsi al sito e richiedere un cdu non ha la necessità di pagare un geometra per fare la visura a meno che insomma non ci siano delle cose particolari però le sue proprietà le può vedere direttamente da Entertel Fisco Online quindi io qui sono entrato con speed nella mia area riservata Fadini Emedeo poi come vedete ho hackerato il sito per nascondere codice fiscale visto che la cosa è registrata nell'icona servizi ipotecari catastali osservatorio immobiliare c'è una voce consultazioni personali e oggettivamente in queste in questa pagina noi arriviamo esattamente alla stessa pagina che da tecnici vediamo in sister ma limitata alle proprietà intestate alla mia persona fisica qui c'è il disclaimer insomma che conosciamo bene praticamente la tutela dei dati personali quindi io quando vado a fare conferma lettura lui mi passa l'elenco degli omonimi tra cui appunto posso selezionare la mia la mia persona e aiuto poi mi passa al una volta che vado a selezionare ricerca mi passa all'elenco degli immobili io ho due immobili in comproprietà in provincia di Udine e poi posso fare appunto l'elenco cliccando su immobili posso fare l'elenco degli immobili che ovviamente sono una 3 e un C6 come potete immaginare e qui ho proprio i tasti che fanno le stesse operazioni che vengono fatte in in sister insomma la visura della mappa la visura per immobile non li ho provati tutti quindi qui non so se la visura planimetrica pesca effettivamente la planimetrica catastrofabricati e ovviamente l'ispezione ipotecaria funziona se c'è un atto un atto telematico però direi che è una cosa da da far conoscere perché è comunque utilizzata mentre invece quello che dicevamo prima sempre dal portale dove troviamo nel menu professionisti sotto fabbricati e terreni ci sono una serie di servizi tra cui c'è una voce che dice ricerca punti fiduciali e qui compare qui a fianco almeno questo è il percorso che ho trovato io la possibilità di scaricare i file della tabella attuale dei punti fiduciali e le mutue distanze dei punti fiduciali che appunto contengono l'elenco dei fiduciali in un in un in formato ASCI poi da qui si va a cercare il proprio ufficio territoriale quindi io devo andare per esempio nel Veneto la direzione provinciale di Treviso ufficio territorio di Treviso quindi stanno riorganizzando un po' la cosa archivio TAF e mutue distanze e qui finalmente ottengo lo scaricamento del dello zip con la tabella attuale dei punti fiduciali e delle mutue distanze che vi avevo fatto vedere prima che vengono aggiornate ogni mese quindi questi sono ulteriori dati catastali che per gestire in un GIS la tabella il file TAF contiene ovviamente le coordinate in formato catastale dei punti fiduciali che però trovavamo anche nei CXF 9 su 10 potete potete quasi scommetterci che non non collimano le coordinate del TAF e del CXF però le distanze mi possono aiutare appunto per verificare eventuali deformazioni e anche per correggerle anche se insomma non sono a conoscenza di cose di cose effettivamente di procedure effettivamente realizzate altre domande dubbi rimostranze lamentele io speravo che mi faceste vedere altre cose accettiamo tutto ok mi pare che siamo stati abbastanza esaustivi dunque se posso se ripeto se c'è dell'altro interrompetemi pure se posso riprendere l'argomento di di prima appunto con Salvucci di Istat volevo chiedere a Stefano Campus cosa ne sa della licenza dei dati dei dati catastali ah giusto c'è una richiesta di fedele se si può vedere di nuovo la stampa del CDU dove insistono più più vincoli più livelli Roberta prova un attimo a preparare e rivedere come viene fuori il CDU dove ci sono più livelli e quindi Stefano ci sei dammi un cenno sì ci sono ciao ok sì ti sentiamo un po' in grotta buongiorno a tutti Stefano Campus di Regione Piemonte e GFOS puntetti ascolta no ci chiedevamo se ipoteticamente un ente pubblico scientifico di alta valenza scientifica di cui non diciamo il nome se avesse una banca dati di tutte le origini catastali foglio per foglio che quindi sono anche molto utili per le operazioni che abbiamo detto oggi secondo te le potrebbe distribuire o è da considerarsi un'opera derivata di dati catastali che in beh a parte che la licenza CCBI in teoria dovrebbe dovrebbe dirlo con Regione Piemonte com'è andata? Allora di fatto vi racconto la nostra esperienza allora di fatto quei dati lì sono già utilizzati perché Convergo ha una parte di trasformazione di dati catastali e ci sono le grandi origini già messe dentro per un tot di zone no? Sì il punto sono le correzioni foglio per foglio perché a partire dall'origine da Convergo va bene ma poi devi fare degli aggiustamenti ok allora l'esperienza che abbiamo fatto noi come Piemonte non è cioè è un po' diversa nel senso che siamo partiti dalla disponibilità che attraverso Sigmater l'agenzia dà delle coperture vettoriali già in un sistema proiettato quindi si li dava in Gauss-Boaga ma per alcune regioni ormai dovrebbe essere anche su tutte lo dava in 32632 e queste questi vettoriali in particolare la componente dei fogli quindi sono stati poi ulteriormente migliorati come posizione a partire dall'individuazione di un seminato di punti di doppie coordinate relativo agli originali di impianto ok esatto sì che bisogna secondo la parazione di tempo poi vi racconto anche la parte dei grigliati quindi per ogni foglio per ogni foglio sono stati individuati i famosi sette parametri di rototraslazione con rubber sheeting e sono state applicati per ogni ad ogni diciamo dataset vettoriale afferente a quel foglio ok direi trasformazione affine 6-7 parametri il rubber sheeting ti richiede più punti mi sembra che sia forse allora non ci sia stato bisogno di rubber sheeting non vorrei aver detto una cagata lo riverifico perché come puoi immaginare conoscendomi non l'ho fatta io personalmente no no ma neanch'io però sì comunque è lo stesso lavoro fatto in regione di Venezia Giulia dall'Uniud e Beinat di fatto allora che cosa che cosa che cosa è successo è successo che le i problemi di buchi e sovrapposizione che avviene fra i fogli di fatto viene sanata viene molto scusami viene molto 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 diminuita e si è arrivato poi ad avere una a cui fare una mosaicatura diciamo semi automatica il grosso dei problemi a parte gli origini gli errori che ci si porta dall'originale catastale ce ne sono ancora il problema principale si è dove si è l'abbiamo trovato in quelle maledette particelle nastriformi che ci sono dovuti magari ai residui di ai residui di di espropri e cose del genere quelle a volte si si sono perse ma hanno fatto delle metriche di di verifica e di individuazione degli errori e dove succedeva è stata è stata fatta manualmente questa operazione è durata circa una un anno e mezzo due e abbiamo terminato con la pubblicazione quella Roma lì noi la chiamiamo ovviamente nessuno può chiamarla catastro che non è più il catastro ma è come dire l'abbiamo trovato ci siamo cervellati e si chiama base cartografica di derivazione catastale qualcosa del genere però diciamo che è quella che noi vorremmo fosse la base cartografica di pianificazione dei comuni perché la nostra legge regionale sull'urbanistica prescrive esplicitamente che la pianificazione deve essere fatta su base catastale avendo avuto dei andate in controtendenza insomma rispetto a Lombardia Veneto Emilia Romagna in che senso? perché noi abbiamo proprio su base CTR invece c'è per legge la legge urbanistica no no questa è una minchia è una è una cosa del del 70 la legge urbanistica è del 76 è una legge essenzialmente procedurale e quindi come dire non è mai stata presa in mano come 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 cambio allora noi abbiamo fatto già la seconda edizione una specifica di contenuto sullo stile delle specifiche fatta proprio con la metodologia GOML che ha l'ambizione che è chiamata urbanistica senza carta che ha l'ambizione di dare delle appunto delle regole di produzione degli elaborati dei piani regolatori e quindi ci serviva avere anche una base una base una base cartografica tieni conto che a partire da questo lavoro e quindi ogni ogni tipo di tutti gli elementi vetoriali di quel foglio godono di questa appunto oggetto della trasformazione e quindi per esempio noi ci siamo portati in pancia come come classe come classe del DB del DB topografico regionale gli edifici l'edificio catastale stringa ingegnere che non ha il suo webinar qua punto punto quindi punto quindi noi abbiamo reso con quello che ci è stato detto con bachigliace cartografico trasformato il catasto in base cartografiche ok quindi è un'opera derivata fatta dalla regione nell'ambito delle sue finalità istituzionali e distribuita nell'ambito delle sue finalità istituzionali quindi licenziata regione in questo caso licenziate regione Cicibai ok sì allora no non credo che sia applicabile bisogna che studiamo un attimo il discorso dei fiduciali che io ritengo siano dei fiduciali i fiduciali diventano quindi no no le monografie dei vertici di inquadramento con le doppie coordinate sì li vendono ma la tabella attuale dei punti fiduciali di fatto è comunque libera e la possibilità di ribattere un fiduciale e quindi di ottenere l'atlon per quel fiduciale è nelle mani di qualsiasi buon topografo e qui oggi ne abbiamo parecchi per cui oggettivamente bisogna un po' studiarla ma come GFOS poi contattiamo ce l'abbiamo già c'è l'amica e collega e prossima socia Laura Garbati che ci farà un peraltro due webinar proprio sulle licenze software libere e le licenze sui dati e quindi la tiriamo dentro sicuramente su sta cosa di fatto appunto loro hanno fatto un approccio diverso e anche più intelligente da quello che uso io perché io ho mostrato l'approccio che io ho sempre usato dovendo trovarmi a lavorare sempre sulla totalità dei comuni quindi si adatta a chi lavora con uno due o tre comuni e quindi avere la possibilità di convertire in un colpo solo tutti i CXF del comune e quindi utilizzo un'unica origine che molto spesso qui in Veneto è un'origine locale per tutto il comune loro in realtà hanno preso un fiduciale l'hanno preso buono come origine del foglio di appartenenza e a partire da questo poi hanno individuato dei parametri dei parametri di correzione ovviamente per avere una buona sovrapposizione appunto sono i sette parametri come dicevi tu per la mosaicatura ma a volte bastano dei parametri di correzione per una trasformazione affina insomma il caso eventualmente dell'utilizzo di rubber sheeting oppure di spline come ha fatto Sojay la prima volta a me non piace particolarmente perché può capitare che in un foglio tu hai solo 4-5 particelle su bordo che hanno delle difformità importanti al momento della sovrapposizione perché magari insomma il professionista che ha effettuato il rilievo si è ritrovato anche a operare in condizioni disagiate sul bordo del foglio magari non ci sono ulteriori punti di appoggio eccetera e con algoritmi di deformazione così come la spline e il rubber sheeting rischi di deformare anche le particelle giuste solo l'ultima cosa 10 secondi un'altra implicazione di sta roba che è tuttanto che è trascurabile è che avendolo noi fatto come regione ovviamente quindi non per il singolo comune ma propagandoci e quindi i confini fra i fogli dei vari comuni diventa un limite amministrativo abbiamo fatto partire un'operazione di individuazione di cartografica e sostituzione solo cartografica di quel limite amministrativo lì per cui dal punto di vista cartografico adesso adesso il processo è partito vogliamo eliminare i come si chiama i limiti amministrativi dell'ISTAT quelli che pubblica annualmente eccetera e usare quelli derivati da questo lavoro perché davvero alla fine poi alla prova dei fatti quotidianamente i comuni mica usano i limiti amministrativi dell'ISTAT allora non li devono usare l'ISTAT non è un ente cartografico giustamente allora che cosa usano? i limiti regionali nel DBT non hai dei limiti amministrativi? sì che siano di derivazione per quanto riguarda i confini nazionali 25.000 dell'IGM e per quanto riguarda invece quelli interni derivano sono quelli dell'ISTAT perché tradizionalmente la CTR del Piemonte nasce con i limiti dell'ISTAT ah ok allora sì sì no no il Veneto è un po' meglio però oggettivamente l'ISTAT è onesto cioè li dichiara per usi amministrativi quindi per fare le mappette su sole 24 ore anch'io mi trovo ad utilizzarli molto spesso e ho ovviamente dei problemi perché la geometria della costa è assolutamente assolutamente inutilizzabile però cioè l'ISTAT è onesto nel suo dire che quello non è un dato cartografico ma è una rappresentazione cartografica in pratica del 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 cosa l'ultima dice Antonio che il catasto non essendo probatorio per la proprietà è anche poco utilizzabile per per identificare i limiti i limiti amministrativi per cui comunque non è che ci si da ce ne si da non è che che ce ne si da molto fuori eh praticamente no ma bisogna convincere coinvolgere i comuni che a due a due dicono riconosciamo quelli anche in regione Veneto è stato fatto questo lavoro con grandissima paura da parte dei comuni perché oggettivamente non riuscivano a capire se questa cosa aveva delle conseguenze proprio dal punto di vista della costituzione del patrimonio del comune no non ce li ha no gli abbiamo spiegato bene però davvero cioè ci sono stati momenti in cui pareva che una striscia di bosco inaccessibile valesse oro insomma scusate scusate se mi sono dilungato come al solito tranquillo allora non so se Roberta aveva fatto vedere scusa scusa Roberta ricondividi lo schermo perché c'era sì ora non so se è proprio quello che intendeva nel senso che ora non ho sinceramente aperto un progetto che gli potrei mostrare al volo però banalmente ecco questo è fatto ovviamente su dati molto molto demo cioè nel caso in cui la particella intersechi di fatto più geometrie che appartengano o meno allo stesso layer di fatto viene in qualche modo rappresentato così quindi qua non so interseca un finto vincolo sismico se avesse intersecato anche in parte un vincolo idrologico di fatto questo esatto questo elenco verrebbe ripetuto sì Fedele non so se abbiamo risposto casomai intervieni pure in audio se vuoi non ti sentiamo eccoci adesso con le superfici chiaramente vengono messe anche le superfici le superfici dipende dipende da te diciamo se tramite l'interfaccia richiedi che venga stampata l'area in metri quadri in percentuale oppure o l'una o l'altra assolutamente sì se non diciamo se non viene spuntata la la casellina che vi faccio vedere al volo no vabbè qua chissà che succede sì poi la cosa la cosa migliore è veramente provatelo nel senso che anche la risposta a queste domande viene con l'azione giustamente cioè io non l'ho mai usato perché appunto non mi occupo più di comuni vado per mare adesso no e anche Roberta conosce più o meno i casi dei clienti che ha supportato direttamente ma poi i casi sono veramente tanti sì 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 poi ecco appunto come dicevo anche prima io non è che di norma urbanistica per cui cioè se c'è se ci sono problemi lato codice sicuramente sono più ferrata se sono appunto questioni più legate a ma l'aria va stampata perché se no se non si vede se si vede ecco quello non è tanto di mio il mio settore ecco per cui allora Enrico chiede è possibile salvare il layer temporale di lavoro temporaneo di lavoro del plugin c'è un layer temporaneo allora sì allora sì fondamentalmente vengono generati rilanciarmi troppo che la mia autostima è già troppo alta tornami su QG ah sì scusami eccomi sì no in realtà genera dei layer temporanei in cui di fatto avresti le varie i risultati delle varie intersezioni e al momento no nel senso che ora come ora questi layer temporanei vengono salvati nella cartella di fatto dei layer temporanei e quindi poi rimossi potrebbe essere se serve c'è un plugin credo che a me funziona ancora che si chiama memory layer saver e quindi fa proprio un file di lavoro con con dei dati in cui alla riapertura del progetto ricarica questi layer temporanei per esempio ah ecco questo potrebbe essere utile una soluzione perché effettivamente uno i layer li vede lì e mica si ricorda anche se c'è il warning alla fine mica si ricorda che sono temporanei li potrebbe perdere però cioè oggettivamente ragazzi si tratta di rilanciare avete visto che le impostazioni le ultime impostazioni utilizzate restano restano sempre quindi io credo sono tutte cose che dal punto di vista organizzativo si riesce a risolvere vai Roberta scusa non so se no no dicevo appunto che sì sì che ci sono cioè l'altra opzione che mi viene in mente è magari cioè perché in realtà questi layer temporanei vengono a un certo punto aggiunti al progetto ovviamente poi rimossi dal progetto quando di fatto termina il processo si potrebbe ovviamente mettere che so una checkbox del tipo mantieni layer temporanei per cui vi rimangono nel progetto e poi se volete ve li salvate o però sì questo volendo si può fare però piuttosto inserire dei passaggi manuali perché cioè così almeno questa è la mia visione per quello che ho avuto modo di lavorare cioè abbiamo a che fare con un dato catastale che è abbastanza dedicato prego ho verificato che è scusami prego prego vai sì sì c'ho anche un altro aspetta che scusami ah no scusate allora unitario che facciamo ok non voleva intervenire mi pare di cattire per cui anche c'è il fatto c'è tutte queste elaborazioni del catasto il catasto riproiettato le cose eccetera secondo me è corretto come lavora adesso il plugin buttarle via prima possibile per evitare di dare delle false informazioni cioè quando noi facciamo una sovrapposizione quello non è più il catasto è una nostra interpretazione di cui ce ne prendiamo la responsabilità per cui se questa cosa è allegata effettivamente al cdu che ha la firma del tecnico e quindi è chiaro questo elemento bene però creare questi dati intermedi che poi rischiano di andare in giro e di creare anche magari delle incomprensioni io personalmente lo sconsiglio bene direi che abbiamo risposto a tutti se c'è qualcosa nessuna lamentela nessuno nessun pollice verso adesso non so se c'è modo di mettere un dislike una cosa mi pare che Federico ha già risposto alla questione della registrazione vero? se vuoi ricordare ancora sì la registrazione verrà resa disponibile nelle prossime settimane nel canale YouTube di GFOS nella chat trovate il link al canale dove sono pubblicati anche già alcuni altri appuntamenti di questo ciclo di workshop sono stati pubblicati finora i primi cinque appunto i cinque workshop vedo che c'è Michele Galassi che ha la mano alzata per intervenire quindi abbiamo tempo per scusate no mi volevo ricollegare con il discorso di un tecnico prima che diceva sul fatto di un CDU se ricapita oppure fatto da due persone se si sbaglia ti può mettere una zona destinazione urbanistica adesso io per i tre comuni che dicevo prima li faccio solamente io quindi sbagliare la coerenza non è questo che è il problema però mi capita per esempio di un CDU che lo richiede dopo un anno io quindi su WorkGist ho un puntuale con tutti i CDU rilasciati e in pratica vedo subito se un CDU l'ho fatto o meno e dopo vado a rivedere nello storico come l'avevo trattato sì sì mi pare più che corretto insomma tenere un buon archivio come anche il cittadino si aspetta insomma cioè si aspetta che non è che il mio comune mi perda le cose o non è in grado di ritrovare la mia pratica edilizia insomma e più due volte va bene infatti volevo sentire se c'era qualche altro tecnico per confrontarmi come lo tratta perché io ne ho 150 all'anno bene o male il CDU quindi uno al giorno e mezzo ne arrivano eh però vendono eh nell'unione bravissima comunque no arrivano complimenti prego intervenite pure o alzate la mano o accendetevi pure il microfono perché dopo due cinque minuti ce li abbiamo ancora grazie ad Antonio che ci ha già lasciato mi pare che andiamo bene allora se non ci sono altre domande io ne approfitterei per ringraziarvi sicuramente di questo eh questo incontro illuminante per quanto riguarda la cartografia catastale che appunto è un settore che eh anche nei nei forum che ci sono in internet eh destra sempre molto molto interesse e anche la partecipazione di oggi insomma un po' dimostra questo ehm questo eh interesse per l'argomento eh ringrazio per la precisa e eh piacevolissima conversazione che abbiamo avuto quest'oggi ricordo a tutti quanti i partecipanti che volendo potete sostenere eh l'associazione Gifos tramite donazioni o eh iscrivendovi sul sito gifos.it trovate tutte le informazioni a riguardo per permetterci di portare avanti ancora eh questi questo ciclo di eh di workshop che speriamo appunto siano eh di interesse e di utilità per per tutti voi fate pubblicità anche per i prossimi e e niente grazie mille Roberta grazie Amedeo per per questa chiacchierata grazie a voi solo chiedervi una cortesia se avete voglia di nella pagina della e la